La sessione pomeridiana di questo importante convegno, io sono Miguel Gotor, sono l'assessore della cultura di Roma e ringrazio gli organizzatori per questo invito. La sezione che ci apprestiamo ad aprire si intitola Segni, nella modellistica dell'organizzazione del convegno e di ogni convegno era destinata a concentrare le relazioni dedicate alla dimensione letteraria e simbolica dell'opera e del linguaggio di Calvino. Poi le pratiche, adesso vedrete, ci danno la possibilità di ascoltare delle relazioni diversificate per argomento. Cominciamo con la relazione del professor Ferraris, tutto in uno scarto appunti sull'umorismo calviniano, quindi che si concentra su questo aspetto così significativo dell'opera letteraria di Calvino. Ferraris è uno degli italianisti francesi più autorevoli, ha insegnato tanti anni a Paris 3, Sorbonne Nouvelle e si è occupato di classici italiani, Leopardi, Svevo, Goffredo Parisi e naturalmente Calvino. Gli do la parola con tanto piacere e possiamo cominciare. Grazie. Grazie a lei. Una epigrafe, una citazione da un articolo dei coniugi White, Evelyn and Catherine White, spessissimo attribuito, ma è uno sbaglio, a Mark Twain. Chiedovenne per la pronuncia dell'inglese. Humor can be dissected as a frog can, but the thing dies in the process, and the innards are discouraging to any, but the purely scientific mind. Ovviamente non mi presento come the purely scientific mind, per carità. Il fenomeno e la nozione di humorismo non vantano nella storia teoretica, critica, accademica, una tradizione che consenta di mettere avanti una formula definitoria ampiamente riconosciuta e quasi assoluta. Però non mancano l'intervento in questo campo da parte di illustre personalità, da Voltaire a Dominique Noguès, passando per Hegel, Bergson, Freud, Pirandello, Chesterton, fra gli altri. Quasi tutte le proposte di definizione riguardano un approccio di tipo empirico e più induttivo che non deduttivo. Da notare poi che nella bibliografia specializzata in lingua francese apparve nel 1906, firmato da un docente di lingua e letteratura inglese alla Sorbona, Louis Casamian, peraltro autore di ben tre volumi sull'umorismo, un saggio il cui titolo recita, traduco letteralmente, perché non possiamo definire l'umorismo. Non abbiamo l'audacia di proporre una nuova definizione dell'umorismo come categoria, ma vorremmo interessarci alle apparizioni più carsiche che sporadiche di varie forme di umorismo nell'opera di Calvino, dai primi tentativi di scrittura all'inizio degli anni 40 fino alle cosiddette lezioni americane. Abbiamo ritenuto un quadro semantico che riguarda il meccanismo dell'umorismo, quale si manifesta attraverso poche variazioni nella scrittura di Calvino, sia narrativa che saggistica, su un arco di tempo di più di 40 anni. Abbiamo scelto un elemento di definizione mutuato dalla conferenza di Freud sull'umorismo nel 1927. Per il padre della psicanalisi, già nel volume sul Witz del 1905, tre anni prima di quello di Pirandello, la tendenza all'umorismo riguarda sempre un tentativo di risparmio del dispendio psichico. Chi pratica o cerca di praticare una variante qualsiasi dell'umorismo intende, magari inconsciamente, proteggersi sia sul piano psichico personale che nel campo antropologico, ideologico e sociale. Ma per il Freud del 1927 l'umorismo viene a scombusolare l'assetto convenzionale della tipica tropica o triade dell'apparato psichico, in quanto il super-io, di solito intransigente, severo con l'io, potrebbe decidere in modo eccezionale di fare un regalo a questa istanza intermedia, con il proporre una specie di sguardo da lontano, e cioè dalle lontanissime rive della morte, con un discorso di rasserenamento che suonerebbe così a un dipresso. Guarda come, visto dalle remote spiagge dalla morte avvenuta, questo problema che quasi ti angoscia adesso è un non nulla di nessuna importanza. Ora il fenomeno della morte individuale non interessava molto Calvino, che la rappresentò pochissimo, perfino la morte di Palomar, pare uno scherzo. Quindi proponiamo di usare il meccanismo di Freud come un modo di protezione in un altro campo, e cioè quello della continua e indefessa fatica di Calvino per razionalizzare il reale o geometrizzare l'universo. L'umorismo potrebbe fungere come valvola di sicurezza rispetto al rischio enorme della pressione di un discorso logico e ermeneutico, che non lascerebbe nessuno spazio al dubbio, alla riflessione, all'euforia poetica e alla fascinosa idra dell'incertezza. E questo umorismo calviniano può anche ricordarci il sottilissimo e sistematico scetticismo del Montaigne apprezzato da Nietzsche e da Calvino pure. Così vogliamo proporre un breve viaggio in un'opera serissima e dominata dalla ferrea legge del Logos, che impone dappertutto il suo ordine totalitario, ma che alberga sotto sotto un altro piccolo Calvino, che pavesianamente sghignazza in sordina, con discrezione e eleganza, perché non vuole lasciare il grande Calvino rischiare di impazzire di fronte ad una ragione che non consente che sulla mappa del reale non ci sia più neanche uno spazio dove porre la tabella Ixunt Leones. Le prime manifestazioni di un discorso narrativo sfasato rispetto alla logica convenzionale si trovano in certi brevi apologhi apparsi attorno al 43. È l'occasione di notare che l'umorismo può svilupparsi indirettamente sulla base di una piccola messa in scena. Possiamo parlare di umorismo di situazione, anche se il vero e proprio umorismo dipende da una formula discorsiva piuttosto laconica. Si tratta nella fattispecie di racconti dell'assurdo o del nonsense d'ascendenza anglosassone. Il caso invece era un'altra, di l'uomo che chiamava Teresa e ancora il profeta Mutu. Più sottile appare il lampo che presenta un mondo all'inizio totalmente privo di senso, poi di colpo tornato all'ordine normale, tradizionale, tanto che il protagonista ne prova una specie di tormento. Sono prove di giovinezza, ma racchiudono già un elemento fondamentale nel gioco umoristico calviniano perché suggeriscono in modo quasi suddolo che potrebbe esistere un'altra saggezza legata al fatto che il soggetto umano può stentare fino all'angoscia, a capire un mondo che pare essere stato messo in ordine da lì altri, secondo criteri incomprensibili, mentre la capacità a capire o credere di capire può anch'essa essere fonte di sgomento, una specie di double bind o doppio legame angoscioso. Prima ancora di esaminare alcune caratteristiche e manifestazioni di umorismo nella maturità dello scrittore, ci pare utile soffermarsi sul fenomeno del distacco cui Calvino dava importanza a vari livelli. Ne parlò in una lettera a Paolo Valenzio del febbraio 1970 mentre da tre anni risiedeva a Parigi. Il fatto è che questa situazione di, fra virgolette, distacco che mi sono faticosamente costruita non mi fa affatto felice, ma d'altra parte non saprei sostituirla con nessun altro. Certo, si può leggere la confidenza riducendola alla sola situazione geografica che per ragioni di lavoro portava a spostamenti talvolta penosi dalla Francia d'Italia, ma è probabile anche pur nella mancanza di affinità con Sartre lo scrittore abbia avuto una forte tendenza per una questione di integrità sia intellettuale che morale e ideologica a pensare sistematicamente contro se stesso per assumere con coraggio una specie di lieve schizofrenia intima e poeticamente stimolante. Non esattamente quella dell'epoca dell'impegno nelle grandiose prospettive del comunismo internazionale, ma piuttosto quella di un difficile e molto teso dialogo intimo nel progetto di poter sorridere di se stesso anche nelle imprese più serie e impegnative. Così tornando nel 62 sull'esperienza della resistenza, Calvino alludeva a un misto di fierezza guerriera e autoironia sulla stessa propria fierezza guerriera, di senso di incarnare la vera autorità legale e di autoironia sulla situazione in cui ci si trovava a incarnarla. Nello stesso tempo lo scrittore userà a varia ripresa la parola inglese understatement, 15 volte se non ho sbagliato, molto probabilmente ad indicare che non esiste un equivalente esatto in altre lingue per esprimere la necessità di dare spazio con finezza al rapporto complesso tra referente e significante. L'umorismo calviniano potrebbe nascere da questa folle volontà di non rinunciare a tenerla da mantino esattissimo discorso del logos definitivo e contemporaneamente a suggerire la possibilità di un lieve dubbio divertito sulla fissità improrogabile di questo duro rapporto perfettamente razionale con il vasto mondo. Una diecina d'anni dopo, nel genio del 72 quindi, Calvino scrisse una lunga lettera agli alunni di una scuola media a proposito del volume Marcovaldo e colse l'occasione per ribadire le sue convinzioni sull'importanza dell'ironia e dell'umorismo ma anche di ogni discorso che tende ad allontanarsi dall'opinione comune. Quasi tutti anche ve la prendete col paradosso, vi potrei subito rispondere che i paradossi sono nella realtà, nel mondo che ci circonda, prima che nel mio libro, ma se voi volete dire che non avrei dovuto scrivere un libro di storielli umoristiche, sia pur amare, ma un libro serio, allora è come dire che avrei dovuto scrivere un altro libro, ma io forse non sono uno scrittore di libri seri e gravi. Quello che voglio dire io è che attraverso l'umorismo, l'ironia, la caricatura e magari il paradosso si può arrivare a far pensare a tante cose che forse altrimenti sfuggirebbero, a mettere in moto la mente in modo più veloce, a ragionare in modo più efficace. Tre anni dopo, nell'agosto del 75, Calvino pubblica i primi testi attorno alla figura in parte autobiografica di Palomar. Fa questi testi il fischio del merlo. Lo scrittore vi usa in modo canzonatorio e senz'altro autoironico un discorso articolato attorno a qualche parola solenne, anzi magniloquente e fosca, ma rivolta a lievissimi tropismi intimi dell'immaginario soggettivo, con un effetto che interroga, sorprende e diverte insieme. Per lui, Palomar, sul terrazzo di Campomarsi ovviamente, la discrepanza tra il comportamento umano e il resto dell'universo è sempre stata fonte di angoscia. Il fischio uguale dell'uomo e del merlo, ecco, lì appare come un ponte gettato sull'abisso. Lo stesso meccanismo viene usato in un testo dell'83 intitolato L'Ordine degli Squamati. L'elemento determinante è sempre un sentimento di sgomento provato dal soggetto, scelto come paradigma dell'umanità, di fronte a realtà che lo schiacciano a livello, possiamo dire, pascaliano, famosa formula, no? Silenzio eterno che di quegli spazi infiniti mi impaurisce. Si tratta di un esempio quasi perfetto dell'ipotesi freudiana sul regalo fatto dal superio all'io, proprio in chiave umoristica. Lo scrittore tenta di consolare se stesso attraverso il povero Palomar con un discorso fantasmatico sulla supposta e rassicurante continuità di madre natura. Il soggetto umano è capace di mettere su, con poche parole, un discorso che riallaccia pacificamente quanto esiste con quanto non esiste, ma potrebbe esistere. Come un bambino che si riterrebbe salvo da ogni spavento, trovando e combinando un aggeggio verbale con effetto apotropoico universale, ma senza essere però del tutto sicuro della riuscita di questa magica iniziativa, anzi rischiando ad ogni momento di annientare il progetto con un attrovato superflua e inquietante. La vita nel padiglione dei rettili appare come uno spreco di forme, senza stile, senza piano, dove tutto è possibile. E in questo numero finito di modi d'essere consiste l'ordine, l'unico ordine riconoscibile al mondo. La sala delle Iguane rispecchia l'ordine del mondo, ma dei mondi da cui l'uomo è escluso, ogni vetrina è un campione minimo strappato da una continuità naturale che potrebbe anche non essere mai esistita. Già nel 67, nella sua risposta a un'inchiesta di Giancarlo Ferretti, Calvino insisteva sull'importanza fondamentale di ogni discorso capace di consentire un distacco totale dai particolari, per approdare una visione ampia sul mondo e addirittura sull'universo, attraverso una specie di polissemia agevolata dal rifiuto a priori di una espressione senza ambiguità. Quel che cerco nella trasfigurazione comica o ironica o grottesca o fumistica è la via d'uscire dalla limitatezza e univocità di ogni rappresentazione e ogni giudizio. Una cosa si può dirla almeno in due modi. Un modo per cui chi la dice vuol dire quella cosa e solo quella. È un modo per cui si vuol dire sì quella cosa, ma nello stesso tempo ricordare che il mondo è molto più complicato e vasto e contraddittorio. E concludeva sulla piccola rivoluzione antropologica recata dall'umorismo di ascendenza anglosassone nella letteratura postclassica, ritenendo che la decisione di guardare e rappresentare il mondo mediante uno spostamento mentale atto a provocare un distacco ironico corrisponde a un vero metodo non solo di scrittura ma anche di conoscenza o almeno di lento e fine approccio a un altro tipo di conoscenza. È piuttosto un metodo incorsivo, un tipo di rapporto col mondo che può informare di sé manifestazioni svariate e quotidiane ed una civiltà. Si pensi a quanto il sense of human abbia contato nell'arricchire l'ironia letteraria di dimensioni fondamentali sconosciute al mondo classico. Nel gennaio dell'85 Calvino incomincia a scrivere la prima delle cosiddette lezioni americane intitolato Lightness, leggerezza. Lo scrittore con l'occasione per affermare che la leggerezza è qualcosa che si crea nella scrittura con i mezzi linguistici che sono quelli del poeta, il che potrebbe corrispondere anche a una definizione pratica dell'umorismo se vogliamo ammettere che si tratta di suggerire uno stato del mondo e del reale attraverso una molto particolare composizione espressiva fondata sull'allusività che richiede sempre una partecipazione attiva, intellettuale e ermeneutica da parte del destinatario del discorso. E lo scrittore ne approfitta per tornare da una parte sulla specificità intrinseca dell'umorismo caratterizzata appunto dalla leggerezza, altra manifestazione forse dell'understatement, rispetto alle altre forme della viscomica e d'altra parte su uno stato psichico o sentimento o tropismo mentale a lui caro e cioè la malinconia che di solito scriveva melanconia. Come la melanconia e la tristezza diventata leggera così lo iomo è il comico che ha perso la pesantezza corporea e mette in dubbio l'io e il mondo e tutta la rete di relazioni che li costituiscono. Nell'ambito dell'euristica positiva dell'escrittore vorremmo ora proporre alcune illustrazioni caratteristiche dell'umorismo calvinian sulla base di qualche orientamento. Il primo riguarda la decisione di impostare un discorso a priori non compatibile con le istanze della logica e della doxa convenzionale. Uno dei primi testi che rappresenta questo indirizzo di ribellione all'ordine stabilito e disorganizzazione. Dell'ottobre 43 ovviamente la data è importante. Si tratta di un umorismo amaro per riprendere il qualificativo usato dallo scrittore ma insieme buffo e riflessivo nel campo di una satira antropologica tra cultura, società e politica. Siamo anche di fronte a una denuncia faceta della nevrosi collettiva che porta a un'organizzazione di tendenza totalitaria. Un mondo orwelliano nel quale è lecito piangere ma solo in determinati posti riservati a questa attività individuale ritenuta nefasta e anche forse nefanda per il rischio di contaminazione. Attorno agli anni 63-64 il meccanismo dell'umorismo nei primi testi che confluiranno nel volume Le Cosmicomiche si articola sull'effetto di compatibilità poetica all'interno di uno spazio senza nessuna possibilità logica di conciliazione tra fenomeni sulla scala temporale della storia geologica e i più superficiali eventi della vita umana quotidiana di un piccolo borghese che ricordano la nozione idegeriana di alto glischkeit. Il lessico tecnico o addirittura scientifico consente di rappresentare situazioni immaginario o oggettivamente impossibile tramite la coordinazione verbale tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Si tratta di un regalo semantico quasi infantile fatto al lettore. L'effetto umoristico nasce appunto dalla continuità illusoria che il discorso stabilisce tra realtà riconosciute dalla più rigorosa tradizione scientifica e alcune scelte molto comune e quasi insignificanti attuate nella sua esistenza da un qualsiasi soggetto umano magari un po' gradasso. La dimensione talvolta estrosa spesso provocatrice dell'effetto comico viene attenuata o piuttosto raffinata in una forma discreta di umorismo attraverso un discorso serio e positivistico che suscita effetti burleschi come altrettante fantasticherie sintattiche dello scrittore. Poi il gioco con la coscienza umana consente anche di attribuire un potere magico quasi assoluto anche dal punto di vista ontologico ma in modo buffo tanto da prendere in giro implicitamente chi si spaventa di fronte alla semplice nozione del nulla integrale e cioè di un mondo totalmente refrattario al logos ma anche alla scrittura poetica lo si vede ad esempio in una cosmicomica dell'agosto 84 intitolata il niente e il poco quello che c'era allora non è nemmeno detto che proprio ci fosse le particelle avevano un'esistenza virtuale quel tipo di esistenza che se ci sei ci sei e se non ci sei puoi cominciare a far conto potesserci e vedere poi cosa succede. Un altro orientamento è quello della distanza rispetto al mondo sia esterno che interno. Trattandosi del tropismo ironico possiamo riportarci a un'intervista rilasciata nel dicembre del 79 a un collaboratore del quotidiano francese Le Monde nella quale Calvino stabiliva un nesso forte tra umorismo, ironia e intelligenza traduco letteralmente perché un'intervista in francese. Umorismo vuol dire mettere tutto in discussione anche quello che si è detto poco prima io ritengo che l'auto ironia è l'elemento decisivo dell'umorismo sapere che ad ogni momento io potrò dire proprio il contrario di quel che dico essere capace di mettere di continuo in causa le proprie opinioni è la condizione necessaria dell'intelligenza. Uno dei primi esempi di questo umorismo dell'intelligenza che porta a discutere e magari a deridere con lieve amarezze le proprie convinzioni si trova in un passo del romanzo abbandonato alla collana della regina a cui Calvino lavorò negli anni 52 e 54. L'umorismo non esente di crudezza sarcastica nella fattispecie sancisce la fine dell'illusione di un architetto che sognava all'inizio della carriera di servire il popolo. L'umorismo rivela lo sfasamento tra le ispirazioni di due classi sociali antagoniste e non evita una specie di acido scoraggiamento nel suo riconoscere l'inconsciabilità tra fantasma e realtà di fronte a quella che Danton chiamava l'aspra verità. L'umorismo ci aiuta talvolta a ricordare che il reale non è magico. Era stato un rivoluzionario a quei tempi Enrico aspettava che il proletariato prendesse il potere e gli affidasse alla costruzione della città con una C maiuscola, ma il proletariato tardava a vincere e poi pareva che non condividesse l'esclusiva passione d'Enrico per le murali nude e i tetti piatti. Dietro il velo della terza persona ritroviamo la stessa tendenza al distacco rispetto a se stessa e una discreta autoironia indiretta. Nel testo dell'estate 82 il mondo guarda il mondo pervaso peraltro dalla fobia tipicamente calviniana della penosa grossolanità della soggettività umana. Il signor Palomar ha deciso che la sua principale attività sarà a guardare le cose dal di fuori. Presto si accorge che sta guastando tutto, come sempre, quando Elie mette di mezzo il proprio io e tutti i problemi che ha col proprio io. Nell'articolo del febbraio 67 già citato, Calvino aveva affermato a chiare note l'importanza dell'autoironia intrinseca alla malinconia. E non mi riferisco tanto al fondo di melanconica simpatia verso il mondo quanto alla prima virtù di ogni vero umorista coinvolgere nella propria ironia anche se stesso. Un terzo orientamento riguarda le varie manifestazioni umoristiche legate al mondo analizzato, scomposto e poi ricostruito nella prassi poetica. Così l'umorismo serve anche a contestare serenamente le scelte di madre natura e forse del creatore divino per chi ci crede. Ad esempio per Palomar pare che l'iguana abbia troppa pelle. La coscienza individuale non solo guarda il mondo, ma lo scruta e lo analizza secondo criteri umani razionali e le piacerebbe pure suggerire qualche modifica utile, senza parlare del fatto che la critica radicale può perfino sconfinare in un piccolo delirio paranoide, ma per scherzo ovviamente. Di questa pelle ce n'è troppa, come un vestito che dovrebbe stare aderente al corpo e invece va giù da tutte le parti. Troppa roba per trovarsi tutta addosso a una sola bestia. Cosa ci sta a fare? Serve a mascherare qualcuno che ci sta guardando da lì dentro? Un ultimo meccanismo umoristico riguarda la critica discretamente insolente a un sistema di valore. Qui intendiamo prima rilevare una frase di Calvino in una risposta ad un'inchiesta della primavera del 71 a proposito dei libri di testo, Marco Valdo. L'autore interviene appunto riferendosi a questo volume. Il mio ideale pedagogico, quando pubblicai come libro per l'infanzia questa serie di storielle, era quella educazione al pessimismo che è il vero senso che si può ricavare dai grandi umoristi. Nel campo erotico lato sensu si può citare una delle rarissime formule scherzose nelle città invisibili, libro serissimo peraltro, e austero quasi. Il narratore sembra proporre una possibile definizione elegante nella provocazione della felicità intima e sociale per un uomo eterosessuale, cui piace evitare l'inconveniente di dover scegliere tra due donne ugualmente desiderate. Sappiamo che è stato il caso per Calvino, almeno giovane. Finalmente giunge a Isidora, dove quando il forestiere incerto tra due donne ne incontra sempre una terza. E nello stesso volume si potrebbe anche ritenere di natura umoristica la lieve canzonatura sulla tendenza alla nostalgia e alla celebrazione di un passato indefinito, segnatamente quando si tratta, attraverso certe immagini come le cartoline vecchie, di idealizzare, quindi di rimpiangere, uno stato urbanistico e architetturale apprezzato non per le sue qualità intrinseche, bensì per il fatto solo che non esiste più. Prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla e men che me non ce lo si vedrebbe oggi, se Maurilia fosse rimasta tale e quale. Comunque, la metropoli ha questa attrattiva in più che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era. Nel gennaio del 62 Calvino scrive La strada di San Giovanni, in cui ricorda la figura paterna e la propria difficoltà a seguire la Weltanschau del Padre. Sto concludendo. Non ho affidato. Ha iniziato a 36 anni. No, no, non mi volevo evitare. L'angoscia prima del calcio di rigore. Grazie. Il titolo in francese è molto più agghiacciante, è l'angoscia del portiere al momento del calcio di rigore, perché è anche l'angoscia del presidente di seduto. Va bene. Quindi, per mio padre le parole dovevano servire da conferma alle cose e da segno di possesso. Per me erano previsioni di cose intraviste appena, non possedute, presunte. Qualche anno dopo, nel 69, Calvino scrive che solo il riso garantisce che il discorso è all'altezza della terribilità del vivere e segna una mutazione rivoluzionaria. Possiamo leggere questa affermazione come un accenno alla capacità specifica dell'umorismo di manifestare in modo implicito, ma nitido, le contraddizioni fondamentali di un mondo difficile da capire e ancora più da controllare perfettamente. Il discorso umoristico sta tutto nella proposta di una interpretazione non convenzionale del mondo. non tende ad imporre nessuna verità, ma suggerisce un'altra visione che stupisce senza offendere. Per Calvino il logos doveva servire a introdurre un ordine umano, forse troppo umano, nell'universo oggettivo e positivo, senza però impedire l'apparizione talvolta di un'altra verità che metta in pericolo l'equilibrio tradizionale e obblighi a ridimensionare l'ordine prestabilito della logica comune. L'umorismo suggerisce modifiche progressive all'ordine implacabile e al rigore meccanico del logos, ma senza tracotanza né aggressività perentoria. Così, alla fine della sua breve esistenza, Calvino assomigliava a un poeta, ancora attento con rispetto alla voce paterna nella sua missione di padronanza assoluto dell'intero universo mediante parole scientifiche e definitive, ma non indifferente però e contemporaneamente a un'altra voce più dimessa, molto diversa da quella del fanciullino pascoliano e sensibile alla musica sottilmente ironica di quei sognatori che difendono il diritto alla contraddizione senza nessuna spiegazione coerente e di quei filosofi, ritenuto dalla doxa accademica, confusi fino alla folia perché sorridono e amano i cavalli. Grazie al professor Ferraris che nella triade tra pluralità, coesione e metamorfosi, toccando il tema dell'ironia e dell'autoironia di Calvino ho l'impressione che abbia approfondito il tema della metamorfosi e mi attendo invece da Andrea De Pasquale, direttore generale della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, ma magari sbaglio e quindi sarò sorpreso, una concentrazione sul tema della coesione perché la sua relazione è dedicata a come si organizza la memoria del mondo Calvino e l'archivistica e Andrea De Pasquale, l'amico Andrea De Pasquale, è perfettamente preposto a questo tipo di relazione proprio anche per la sua esperienza professionale e lavorativa. Da ultimo è stato direttore dell'archivio centrale dello Stato, studioso di fama e relatore in svariati convegni e gli do la parola e grazie. Bene, buonasera a tutti. Nel 1968 usciva per il Club degli Editori una selezione di racconti che prese il titolo collettivo di La Memoria del Mondo. Come Calvino informa nella prefazione, originariamente l'opera era nata su commissione dell'editore che aveva chiesto proprio all'autore di radunare in un nuovo libro una selezione di racconti già editi in due suoi precedenti volumi, Le Cosmicomiche del 65 e Ticon Zero del 67. Da questa primitiva idea di semplice riedizione di testi già noti, Calvino si allontanò immediatamente scegliendo di tracciare con testi anche inediti un percorso che toccasse temi a lui cari riguardanti, cito, storie della Luna, della Terra, delle galassie, dello spazio e del tempo. Ne venne fuori così un'opera originale che puntava ad avvicinare un pubblico di lettori nuovi, un risultato che Calvino non esitava a definire il vero libro che avevo voluto scrivere fin da principio o almeno era ciò che più vi si avvicinava, che risultava essere una sorta di completamente di evoluzione delle Cosmicomiche del 65. All'interno della nuova pubblicazione, come si è detto, figuravano testi inediti, tra cui uno che diede il nome alla raccolta La Memoria del Mondo. Si tratta di un breve saggio di sole sette pagine apparentemente insignificante a lungo trascurato nell'analisi della produzione calviniana anche perché esso tratta di un tema che al momento della sua pubblicazione poteva risultare sicuramente fantascientifico e impossibile. In realtà i temi affrontati in esso si sono rivelate ad oltre 50 anni di distanza e di estrema attualità, dimostrando ancora una volta la lungimiranza della riflessione calviniana e la conoscenza dei principi di una disciplina, l'archivistica, che risulta assente nel catalogo delle tradizionali tematiche calviniane. Come vedremo nel racconto, infatti, Calvino mette in luce pionieristicamente i temi che oggi assillano la riflessione dell'archivista. La tensione a voler descrivere, catalogare, classificare tutte le informazioni possibili che riguardano il genere umano, i problemi della conservazione a lungo termine dei dati, mettendola a riparo da distruzioni, i rischi della manipolazione degli stessi, che riguardano anche il problema della deontologia professionale, il governo e la gestione dei big data, ora ormai immessi nella rete. La trama del racconto affronta, con toni che variano tra il comico e il drammatico, una sorta di monologo senza contraddittorio tra due direttori di una misteriosa organizzazione in occasione del passaggio di consegne al momento dell'imminente abbandono della direzione da parte del primo di questi. La motivazione della dipartita del direttore non è avvenuta per sua scelta, ma è motivata da ragioni di salute dovuta all'insorgere di una crisi depressiva nata dopo la scomparsa misteriosa della moglie, che ha minato le sue forze, spingendola a rinunciare all'incarico anche su invito dei superiori. Il nuovo direttore si chiama Muller, definito il migliore degli altri quadri dell'organizzazione e per questo scelto a succedere alla carica di direttore, che sappiamo essere entrato nell'organizzazione a seguito di una selezione vinta per la presentazione di un progetto intitolato Tutto il British Museum in una castagna. Il direttore uscente non parla per sua scelta, ma è stato incaricato dai superiori dell'organizzazione di informare il nuovo direttore di alcuni aspetti del progetto che si sta portando avanti e che ancora egli ignorava, dei segreti che finora gli erano stati taciuti perché riservati esclusivamente al direttore. Viene innanzitutto riepilogata la funzione dell'ente, o meglio, quella che a tutti nota in realtà rappresenta solo l'aspetto evidente della stessa. Tutti infatti sapevano che l'organizzazione era impegnata a costituire il più grande centro di documentazione che sia mai stato progettato, uno schedario che raccolga e ordini tutto quello che si sa ad ogni persona, animale e cosa, in vista di un inventario generale non solo del presente ma anche del passato, di tutto quello che c'è stato dalle origini, insomma una storia generale di tutto contemporaneamente, o meglio un catalogo di tutto momento per momento. Un'impresa immane che suonava all'epoca utopica e fantascientifica che aveva lo scopo di mettere insieme rendendo disponibile il contenuto informativo delle più importanti biblioteche del mondo, degli archivi e dei musei, delle annate e dei giornali di ogni paese, ma anche una documentazione raccolta ad hoc, persona per persona, luogo per luogo. Si chiariva anche la metodologia di archiviazione seguita, Tutto questo materiale passa attraverso un progetto di riduzione all'essenziale, condensazione, miniaturizzazione, che non sappiamo ancora a che punto si arresterà. Così come tutte le immagini esistenti e possibili vengono archiviate in minuscole bobine di microfilm e microscopici rocchetti di filo magnetico. È una memoria centralizzata del genere umano che noi siamo intenti a costruire immagazzinata in uno spazio il più restretto possibile. Calvino dimostra così di conoscere le tecnologie di archiviazione delle memorie che ancora risultavano in Italia all'inizio del loro utilizzo. Ci si riferisce ai microfilm che erano utilizzati negli USA fin dagli anni venti per archiviare informazioni bancarie e poi durante la seconda guerra mondiale per agevolare l'invio della corrispondenza dei militari al fronte ma che in Italia erano appena gli albori in particolare per gli archivi e le biblioteche. Fin dal 1957, proprio in quegli anni, l'Istituto della Patologia del Libro aveva iniziato a microfilmare i manoscritti dei più celebri italiani a partire dal fondo sessoriano di questa Biblioteca Nazionale Centrale che grazie al suo direttore all'epoca, pochi anni dopo, nel 1969, aveva iniziato a costituire il progetto di microfilmatura dei giornali al fine di ricostruire anche tutte le annate esistenti con l'apporto di altre istituzioni che le possedevano. Quindi molto dopo rispetto all'accenno dei microfilme e all'accenno al fatto che si volesse archiviare tutte le annate dei giornali di ogni paese. Poco dopo, nel 1970, sempre in questo palazzo, sarà avviata il progetto di informatizzazione dei cataloghi, anche dei servizi, nella stessa Biblioteca, grazie a una pionieristica collaborazione sotto la regia di Angela Vinai con il Centro di Calcolo della Sapienza e della Suprema Corte di Cassazione con l'idea di registrare tutti i libri posseduti dalle biblioteche italiane su nastri magnetici. Andando avanti, il direttore uscente che arriva a seguire le ragioni reali dello scopo dell'impresa. Tutto ciò è fatto in vista della fine del mondo, della prossima fine di vita sulla Terra, in modo da poter trasmettere ad altri che verranno dopo di noi, abitanti di pianeti sconosciuti, che giungeranno, dopo la scomparsa del genere umano, la conoscenza acquisita, in modo che i loro discendenti ricordino la nostra specie. Che arriva però che non era compito dell'organizzazione occuparsi di studiare il sistema per comunicare l'esistenza della memoria immagazzinata ad altri pianeti, né le modalità, se ottiche o acustiche, oppure se fosse possibile nascondere tale memoria in luoghi sicuri sotto la crosta terrestre, in modo che, cito, archeologi extragalattici, possano un domani scoprirla. Neppure dovrà essere affrontato il problema della lettura dei dati stessi, quali codici usare a fronte di sistemi linguistici a noi sconosciuti, che userebbero gli alieni. Si tratta ancora una volta di argomenti estremamente attuali, il disaster recovery dei dati, cioè le tecniche che possono attuarsi per impedire la perdita delle informazioni digitali in caso di eventi calamitosi. Inoltre viene accennata la difficoltà della sopravvivenza dei linguaggi di archiviazione. È noto, infatti, che uno dei problemi con cui devono confrontarsi le memorie digitali è rappresentato dall'obsolescenza dei supporti di archiviazione, ma anche dei linguaggi con cui le informazioni sono state scritte, obbligando a periodiche migrazioni dei dati su supporti di tecnologia più evoluta o a conversioni in nuovi sistemi di interpretazione, oppure ancora, come sembra presagire il racconto, includere all'interno delle informazioni che oggi chiameremo metadati, che permettono la lettura e le interpretazioni in futuro dei dati stessi. Il compito, quindi, dell'organizzazione dei due direttori è solo quello di raccogliere, catalogare e archiviare su memorie le informazioni dell'umanità. Una sorta di archivio storico, ormai chiuso e non più arricchito per la scomparsa del suo soggetto produttore, ormai estinto, l'uomo. Una quantità finita, cito, dato che non potrà più rinnovarsi e aumentare. Per dirla con l'archivistica, una sorta di costituzione della sezione separata d'archivio, distinguendo quindi le informazioni ormai storiche e storicizzate da quelle ancora troppo recenti o correnti e quindi suscettibili di modifiche, migliorie e cambiamenti. Una sorta di versamento, per usare sempre un concetto archivistico, di un archivio di un ente soppresso, estinto e che ha saurito le sue funzioni. Il genere umano è infatti inteso come una certa quantità di informazioni su se stesse e sul mondo, una quantità finita, dato che non potrà più rinnovarsi ed aumentare. Sostanzialmente la sua memoria, le sue invenzioni per comunicare e ricordare. Scopo dell'organizzazione è che tutte le informazioni siano archiviate e non si disperdano, anche senza preoccuparsi se domani tali dati verranno conosciuti e utilizzati o meno, perché quello che resta fuori è come se non ci fosse mai stato. Emerge quindi l'idea della totalità della necessità di garantire e preservare tutte le informazioni, che però deve abbinarsi ad una preliminare operazione di cernita e depurazione di quelle essenziali. Del direttore infatti sarà lo scrupolo fare come se non ci fosse mai stato tutto ciò che finirebbe per impastoiare o mettere in ombra cito altre cose più essenziali, cioè tutto quello che anziché aumentare l'informazione creerebbe un inutile disordine e frastuono. Si ribadisce così l'importanza di garantire un modello generale costituito dall'insieme delle informazioni del quale potranno essere ricavate altre informazioni che noi non diamo e che magari non abbiamo. Insomma, non dando certe informazioni, se non danno di più di quanto non se ne darebbe dandole. Il risultato finale del nostro lavoro sarà un modello in cui tutto conta come informazione, anche ciò che non c'è. Ancora una volta sembrano riccheggiare i principi cardini dell'archivistica tradizionale. Come è noto, al momento del trasferimento di un archivio, di un ente o persona ad un soggetto che ne garantisca la sua conservazione permanente, l'archivista è tenuto ad effettuare un'operazione di scarto consistente nell'individuazione e conseguente eliminazione di tutta quella documentazione o meglio di quelle informazioni che hanno esaurito il loro valore e non sono più ritenute di interesse storico e quindi senza la necessità di una loro conservazione permanente. Lo scopo di tale operazione ha gli stessi fini che sembrano riecheggiare nel racconto calviniano, evitare l'accumulo di documentazione e quindi di memoria e di informazioni in modo che si metta in evidenza l'effettiva documentazione utile che si ritiene meritevole di essere conservata conosciuta in futura evitando così di distrarre l'utente dall'essenzialità del dato. Non si tratta in ogni caso di un'operazione per semplicemente fare spazio ma un'impresa culturale che implica una scelta e un giudizio sull'essenzialità della documentazione in questione. Operazione quindi estremamente pericolosa per la perdita di informazioni che un domani potrebbero diventare utili e una grande responsabilità che racchiude in sé anche la trasmissione di una determinata visione dell'essenziale. Si tratta quindi di una scelta radicale in quanto quello che si perde lo sarà per sempre. Uno dei criteri alla base dello scarto archivistico è quello di verificare l'esistenza di informazioni ridondanti. In più luoghi anche questo concetto sembra emergere nelle parole del direttore calviniano che vede la possibilità scartando di dare maggiori informazioni di quanti non se ne danno non scartando sollecitando il recupero delle stesse anche quelle non evidenti grazie alla garanzia di un modello organizzativo della documentazione quello che l'archivista chiama l'albero. Il direttore dell'organizzazione prosegue riflettendo su un altro concetto lo sconforto dell'archivista che ha paura di perdere informazioni utili e gli infatti dice che in certe circostanze cito si è tentati di pensare che solo ciò che sfugge alla nostra registrazione è importante che solo ciò che passa senza lasciare traccia esiste veramente mentre tutto quello che i nostri schedari ritengono è la parte morta i truccioli la scoria. Chi può escludere che l'universo consista nella rete discontinua degli atti non registrabili e che la nostra organizzazione non ne controlli altro che lo stampo negativo la cornice di vuoto e l'intelligenza sono queste le preoccupazioni che si fa qualsiasi archivista di fronte al momento della redazione dell'inventario cioè di quello strumento che permetterà all'utente di accedere alla documentazione ma solo nel momento stesso in cui l'archivista abbia individuato l'informazione stessa compresa descritta ed esposta quali sono le informazioni essenziali avrò descritto tutto avrò tralasciato informazioni importanti l'ISAD lo standard di descrizione archivistica offre una definizione della descrizione che sembra riportare ancora una volta al racconto l'elaborazione di un'esatta rappresentazione di un'unità di descrizione delle parti che eventualmente la compongono attraverso la raccolta l'analisi l'organizzazione e la registrazione di informazioni che permettono di identificare gestire localizzare illustrare il materiale documentario il contesto e i sistemi di archiviazione che lo hanno prodotto si tratta in ogni caso come la selezione di un'operazione soggettiva che offre anche un grande privilegio come ben sa il direttore dell'organizzazione il privilegio cioè dei responsabili delle informazioni del record manager diremmo quello di dare un'impronta personale alla memoria del mondo si precisa però che non si tratta di un arbitrio o di un abuso di potere ma in effetti di un compito ancora una volta squisitamente archivistico che però tocca anche implicazioni deontologiche una massa di informazioni cito freddamente oggettive incontrovertibili rischierebbe di fornire un'immagine lontana dal vero di falsare quello che è più specifico di ogni di ogni situazione dobbiamo tenere conto di questo compito del direttore e dare all'insieme dei dati raccolti e selezionati dagli uffici quella lieve impronta soggettiva quindi il direttore avverte Muller che le operazioni di archiviazione sono state contraddistinte da un suo intervento soggettivo anche voluto che ha plasmato la documentazione finale un problema ancora oggi di grande attualità che ha meritato specifiche indicazioni nel codice internazionale di deontologia degli archivisti varato all'assemblea generale del consiglio internazionale degli archivi a Pechino nel 1996 molti anni dopo in esso si rammenta che il dovere degli archivisti è di mantenere l'integrità dei documenti affidati alla loro sorveglianza e custodia gli archivisti selezioni di documenti con imparzialità operano in modo che il valore archivistico dei documenti compresi quelli elettronici non sia diminuito nel corto dei lavori di selezione ordinamento e descrizione tutti temi che sono solo in anni recenti emersi come problematica del lavoro archivistica e come tali codificati dall'istituto dal consiglio internazionale degli archivi 40 anni dopo il racconto di Calvino i rischi della trasmissione del sapere in mano agli uomini sono descritti nella confessione che fa il direttore che è preceduta da un'affermazione che giunge alla tragicità e che mette in discussione tutto l'impianto e lo scopo dell'organizzazione per cui lavora si tratta dell'elogio della menzogna in quanto essa esclude solo in apparenza la verità lei sa che in molti casi le menzogne per esempio per il psicanalista quelle del paziente sono indicative di quanto più della verità e così sarà per coloro che si troveranno ad interpretare il nostro messaggio il delirio giunge al suo compimento con l'affermazione che la menzogna è la vera informazione che noi abbiamo da trasmettere scaturisce così la confessione di aver voluto splasmare la verità su fatti che lo riguardavano sentendosi autorizzata ad abbondare in particolare i non veri in particolare soprattutto quelli relativi al rapporto con la moglie angela alla loro vita insieme le informazioni su tale aspetto della sua vita erano stati in effetti manipolati la mia vita con l'angela cito l'ho descritta come avrei voluto che fosse una grande storia d'amore in cui angela e io appariamo come due eterni innamorati felici in mezzo ad ogni avversità passionati e fedeli tutto il contrario come era la realtà un matrimonio di convenienze di meschinità e sotterfugi l'informazione era stata quindi così manipolata eliminando abbellendo dati eliminandone altri selezionando altri ancora sempre con la paura di creare un'opera perfetta dove non aver lasciato che fosse possibile trovare la vera verità il fine era quella quindi di restituire un'immagine di angela informazione che escludesse macchie e colpe quindi la donna viene ridotta a un fascio di dati che erano stati destrutturati per essere purgati modificati e presentati nella maniera in cui si voleva trasferire i posteri dopo aver spasmato la realtà informazionale di angela il direttore fa trapelare la notizia di chi l'ha uccisa in modo da fissare come in un archivio storico le informazioni per sempre spegnendo la fonte generatrice delle stesse quello che rimaneva da risolvere era solo la presenza di muller le sue informazioni come quelle degli altri amanti erano state cancellate ora toccava eliminare lui se della memoria del mondo non c'è niente da correggere la sola cosa che resta da fare è correggere la realtà per questo motivo il direttore uccise muller ancora una volta per controllare l'informazione ormai esaurita nella novità al di là dell'epilogo tragico che fa parte della trama della narrazione emerge un altro tema di attualità l'attenzione per gli archivi personali non più solo visti come l'insieme delle carte prodotte o ricevute da un individuo nel corso della sua vita ma come un aggregato complesso e multipologico di dati oggetti informazioni legati alle persone stesse è ormai tradizione per gli archivi personali non solo salvaguardare le carte ma anche arricchire la documentazione tradizionale con oggetti simbolo arredi di case affetti personali a cui si era legati che contribuiscono a delineare la personalità a completare i suoi interessi a comprendere meglio aspetti della vita di tutti i giorni l'archivo personale quindi è diventato un grappolo di informazioni variegate che contribuiscono a ricostruire un soggetto esattamente come è stato fatto qui in biblioteca nazionale centrale al momento del recupero dell'archivo calviniano e della sua ricostruzione che avete visto qui nella sposita sala tale concetto verrà poi ripreso da Calvini in un altro racconto incluso in collezione di sabbia dedicata a Mario Praz descrivendo la sua attività collezionistica egli osservava che l'uomo ogni uomo è uomo più cose è uomo in quanto si riconosce il numero di cose riconosce l'umano investito in cose il se stesso che ha preso forma di cose l'importante però garantire le relazioni e i legami tra esse come lo stesso Calvino faceva notare tema anche questo tradizionalmente esquisitamente archivistico che ha nel concetto di vincolo uno dei suoi principi fondamentali nulla è monade in un archivio ma ogni dato è collegato connessi logici ad altri in maniera naturale e necessaria anzi l'insieme dei vari elementi e il loro legame e le loro relazioni rappresentano l'anima del titolare dell'archivio stesso la stessa suggestione e chiudo che rievoca nuovamente Calvino nella città di Zaira delle città invisibili una città non solo fatta da elementi architettonici ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato esattamente come un archivio che come la città non dice il suo passato lo contiene come le linee di una mano scritte nello spigoli delle vie nelle griglie nelle finestre negli scori in mano delle scale grazie grazie a dottor De Pasquale la rievocazione che ha fatto così puntuale delle memorie del mondo mi consente di aprire un minuto una finestra rispetto a quanto Roma sta facendo per Calvino perché alle memorie del mondo noi abbiamo dedicato nell'estate del 2023 il festival internazionale delle letterature e abbiamo dato proprio lettura in uno splendido contesto in una splendida serata estiva al foro Alessandrino grazie alla perizia dell'attore Locascio proprio abbiamo dato lettura del testo di Calvino e dal momento che vedo in sala il professor Berpoliti mi fa piacere ringraziarlo perché ci sta dando una mano sostanziale alla cura editoriale di un progetto che l'assessorato della cultura ha sostenuto e finanziato che si intitola Alfabeto Calvino ideale prosecuzione del ciclo di incontri che dedicammo l'anno scorso con un alfabeto Pasolini quando cadeva il centenario di Pasolini quest'anno stiamo facendo una ventina di incontri nelle biblioteche di Roma con gli studenti e le studentesse romane del quartiere prevalentemente dove insiste la biblioteca dedicata insomma la pluralità di aspetti del pensiero della poetica di alcuni singoli romanzi di Calvino magari in questa sede ci sono degli studiosi o delle studiosi che appunto hanno partecipato parteciperanno a questi incontri e li ringrazio e c'è poi un aspetto interessante dal momento che Calvino è ancora oggi uno degli scrittori che più viene affrontato ma in alcuni casi dalle elementari se non prima con le fiabbe italiane ma certamente dalle medie nelle classi e nelle scuole con la sua opera ci saranno anche degli incontri dove come dire si proverà a insegnare e insegnare Calvino ai docenti e quindi grazie grazie a doppio zero che ha fornito le competenze per promuovere questa attività e poi infine a Natale insomma sotto Natale a dicembre il Teatro di Roma ha prodotto e produrrà una un'opera teatrale dedicata espressamente a Calvino e mi scuso per questa per questa parentesi informativa e do la parola al professor Trione che probabilmente ora lo ascolteremo svilupperà il filo della pluralità con una relazione città analoghe Italo Calvino Giorgio De Chirico Aldo Rossi e gli do la parola storico dell'arte critico d'arte contemporanea e professore professore a a Milano e ha dedicato tanta parte del suo impegno come studioso a una serie di artisti che appunto hanno incrociato la sensibilità di Calvino e grazie 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 a professor dotore grazie ovviamente ai curatori di queste intense giornate calviniane rispetto al titolo inizialmente proposto da me ho fatto una lieve modifica vale a dire usando i termini cinematografici l'ho trasformato da un triello a un duello nel senso che Aldo Rossi è diventata un po' una comparsa e i veri protagonisti sono appunto Calvino e De Chirico vorrei vorrei muovere da una recensione uscita nel dicembre del 82 sul Repubblica in cui Calvino parla del volume dedicato al paesaggio della storia d'Italia e inaudiana volume diretto da Cesare De Seta in questo articolo che poi è stato radunato in collezione di sabbia Calvino si interroga sulla dimensione del vuoto urbano interpretato scrive come una costante mentale italiana che collega le città ideali rinascimentali a quelle metafisiche di De Chirico è una sorta di prologo è un nodo storico teorico che su un registro narrativo visionario era stato affrontato in un testo scritto tra il 7 e il 13 febbraio dello stesso anno da Calvino in una conferenza che poi verrà letta al Centre Pompidou di Parigi in occasione di una grande retrospettiva dedicata a Giorgio De Chirico è un racconto filosofico ricco di riferimenti a pensatori da Cartesio a Kant di rinvii a personaggi mitologici diciamo che è un esercizio di stile in cui Calvino sembra riprendere la memoria delle prose d'arte di Emilio Cecchi che tanto aveva amato negli anni della gioventù e la sua sfida sta nel dare una forma narrativa libera alle misteriose drammaturgie dei Chirichiane che sceglie di attraversare in maniera indiretta e trasversale quasi mimandone le tensioni e gli straniamenti Calvino muove dalle immagini fisse vide Chirico e le sviluppa elaborando una sorta di fantasia figurale una sorta e propone una sorta di avventura immersiva la voce narrante entra nei quadri li percorre li abita li attraversa li vi si smarrisce si sofferma su figure e su motivi e sembra quasi anticipare quello che Kurosawa farà con i dipinti di Van Gogh in sogni per condurre il lettore dentro il quadro avrebbero detto i futuristi per portare lo spettatore al centro del quadro Calvino ricorre a una proposta di tipo icono testuale ovvero il testo è accompagnato da una proiezione di diapositive circa 40 che non sono soltanto un corredo sono una sorta di prosecuzione del racconto di Calvino mi piace pensare che si tratti di un artificio vagamente ispirato a quello che aveva adottato Roberto Longhi il quale spesso per catturare l'attenzione dei suoi studenti nei corsi universitari proiettava accostando riproduzioni di opere d'arte diverse è il racconto che ne fa Pasolini il quale memore delle celebre lezioni dell'anno accademico 41-42 rammenta quel memorabile corso dedicato ai fatti di Masolino e di Masaccio per il giovanissimo Pasolini che non aveva ancora 18 anni fu una vera folgorazione figurativa e uso questa espressione non a caso riferendomi alla dedica celebre che Pasolini rivolgerà al suo maestro Longhi in apertura del suo secondo film ovvero Mamma Roma cosa faceva Longhi Longhi accostava in maniera sistematica i dipinti di Masolino e di Masaccio in una serie di sequenze serrate commenterà Pasolini i totali dettagli dei lavori coevi ed eseguiti nello stesso luogo da quei pittori nell'accostarsi sembravano quasi comporre un involontario documentario inquadrature di Masolino si opponevano e dialogavano con inquadrature di Masaccio la mano di una vergine al manto di un'altra vergine il primo piano di un santo al primo piano di un altro santo il frammento commenta Pasolini di un mondo si opponeva quasi fisicamente materialmente al frammento di un altro mondo formale è probabile che non abbia agito nella memoria di Calvino questo riferimento eppure nella lezione francese al Pompidou egli adotta esattamente lo stesso artificio e ci consegna un quasi film un quasi film fatto di molti fotogrammi non troppo diversi dai tanti episodi del cinema delle origini non è un commento a Calvino si tratta piuttosto di una ipotesi di riscrittura interiorizzata un'implicita forma di autobiografia critica e poetica in cui Calvino come reciterà il sottotitolo di questo testo nella versione apparsa nel luglio agosto dell'83 su fmr si pone accanto a una mostra la sua è un'ipotesi di mimesi inesatta in cui Calvino sperimenta un modo di parlare attraverso la pittura e suggerisce un'identificazione nella differenza è un'operazione non troppo diversa da quella che fa un attore che entra nel suo personaggio attraverso un sistema di magnetismi è il momento di guardare un po' il il modo in cui Calvino articola questo quasi film questa è la copertina del numero di Franco Maria Ricci questa è il sommario dove appare il riferimento appunto al testo calviniano questa è la parte conclusiva sono tutte le opere che Calvino vedete Calvino fa un'operazione che è molto sottile cioè non ragiona da storico dell'arte fa un'operazione nella quale è del tutto indifferente alle cronologie ma fa un'operazione nella quale proprio entra abita dentro i quadri e li disarticola completamente questa è la lista delle opere che sceglie di commentare visivamente e quello che vedrete dopo invece sarà il suo quasi film eccolo lui lo costruisce esattamente così le misure sono sbagliate non tiene conto delle misure corrette i rapporti sono non sempre rispettosi delle puntuali sequenze cronologiche ragiona per famiglie con un'inclinazione in qualche modo tassonomica Calvino tende a dare coerenza a alle iconografie ricorrenti nel mondo decirichiano come se ragionasse per sezioni cioè costruisce un proprio museo immaginario di decirico vedete è molto interessante la scelta dei dettagli delle zoomate il quadro molto raramente viene presentato nella sua interezza si prende il lusso di zoomare ricorro ancora alla terminologia cinematografica è chiaro che le sue predilezioni vanno al decirico della metafisica fino al 17 18 cioè una diciamo si capisce che Calvino apparteneva ancora alla generazione che guardava con una qualche diffidenza il decirico neobarocco quello che poi diciamo dal proprio al ridosso di quegli anni il recupero del decirico neobarocco risale a un importante saggio che decirico amava molto decirico era severissimo nei confronti dei critici li considerava tutti incluso longhi ovviamente incapaci di interpretare la sua pittura io nel suo archivio ho trovato questo saggio che gli aveva dedicato Renato Barilli presentato in un famoso convegno dedicato al surrealismo promosso da Filiberto Menna e Silvana Senisi all'Università di Salerno in cui viene recuperato il secondo De Chirico e De Chirico scrive cosa era risia bello con il punto esclamativo ed è negli stessi anni 82 il convegno di Salerno sul surrealismo dell'84 però Calvino non è ancora attento ancora un po' di diffidenza nei confronti del secondo De Chirico proviamo a capire come Calvino a seguire a questo punto la voce di Calvino in che maniera questa quasi voce fuoricampo commenta i quadri di De Chirico Calvino ci consegna una un serrato succedersi di visioni sono delle vere proprie sequenze attraverso le parole sequenze per verba i contesti dipinti sembrano sfiorati in maniera lirica è un testo profondamente poetico quello di Calvino Calvino racconta l'impressione che fa chi entra dentro i quadri di De Chirico e lui dice si sente a disagio colui che ha paura delle piazze che è condannato a diventare un claustrofobo negli spazi vuoti e ostili dipinti da De Chirico meglio cito strisciare dietro gli spigoli degli edifici tra i pilastri dei portici senza avventurarsi allo scoperto tanti inciampi visivi commenta Calvino sono come minacce o come incontri con il destino passanti fermi vedete lui non parla mai in maniera esplicita dei quadri ma si capisce a cosa sta rimandando quando parla dei passanti fermi il riferimento è a melanconia del 1912 quando parla dell'ombra di una bambina che gioca con il cerchio il riferimento è alla melanconia e misterio di una strada del 1914 quando parla delle figure misteriose immobili che insegnano una linea di condotta si riferisce di nuovo a melanconia e misterio di una strada e poi è evidente il rimando all'après-midi d'Ariane quando commenta l'apparizione di treni e navi e è evidente l'eco del grande metafisico del 1917 quando descrive gli accatastamenti laddove spinti da una specie di forza di attrazione oggetti diversi si stringono gli uni agli altri fino a comporre la loro eterogeneità in figure vagamente antropomorfe Calvino parla di una nuova stirpe d'abitanti è come se fossero gli individui postumani quelli che dipinge De Chirico poi l'apertura verso la seconda stagione De Chirichiana quindi in cui De Chirico abbandona l'architettura in senso stresto e dunque quelli che vedete alle mie spalle le spiagge deserte accanto a rovine di templi con cavalli che hanno criniere e code fluenti la luce Calvino si sofferma su alcuni elementi tipicamente De Chirichiani la luce innanzitutto Calvino dice che opportunamente la luce è indecifrabile nei quadri di De Chirico è doppia è ambigua non si sa se sia un'alba o un tramonto un'aurora o un imbrunire siamo dentro piazze invase da un sole incerto nei quadri di De Chirico talvolta in fondo alle strade Calvino resta colpito dall'apparizione incongrua di un del mare o di un veliero il riferimento è all'incertezza del poeta del 1913 nei quadri di De Chirico secondo Calvino c'è un gioco ininterrotto di inversioni l'esterno e l'interno si confondono e si scambiano i ruoli le colonne e gli alberi sono ammucchiati dentro stanze le poltrone e gli armadi sono trasportati in parchi i mobili affiorano nella valle ma soprattutto Calvino indugia su un elemento il dialogo ambiguo tra orizzontalità e verticalità che caratterizza le opere di De Chirico la verticalità tipica di strade e piazze piani lisci sgombri e continui costellati di presenze lontane e insieme palazzi con arcate sormontati da loggie con orologi ciminiere stabilimenti industriali colonne alberi poltroni armadi portici assorti e finestre sbarrate infine i veri frequentatori di questi di questa metafisica di pietra che sono i manichini di chi Calvino li commenta descrivendoli con testa clava o a uovo senza volto le statue imponenti le composizioni che escludono le emozioni ma Calvino dice una cosa sulla quale mi sono spesso interrogato il titolo di questo racconto è le città del pensiero e scrive l'ospite vero delle città dipinte da De Chirico è il pensiero questa città è fatta per accogliere il pensiero per contenerlo e trattenerlo senza che si senta costretto qui il pensiero trova il suo spazio e il suo tempo un tempo sospeso come di invito d'attesa qui il pensiero sente di essere sul punto di affacciarsi all'orizzonte della mente e può prolungare questo stato di incertezza ororale e rimandare il momento in cui sarà obbligato a precisarsi a diventare il pensiero di qualcosa il pensiero nella sua assolutezza il pensiero ricorda Calvino nelle opere di De Chirico sembra addirittura esalare dalle ciminiere dai fumaioli o dai camini che si elevano ai margini delle piazze d'Italia ma il pensiero emana da architetture prevalentemente verticali che dimostrano Calvino non lo cita ma un rimando implicitamente kafkiano sotteso all'immaginario dei Chirichiano esacome Kafka De Chirico tende a nascondere a se stesso il fascino del cielo il mistero delle stelle le sue sono sempre quinte architettoniche chiuse mi è capitato di studiare a lungo il modo in cui De Chirico dipingeva spesso De Chirico costruiva delle vere e proprie maquette quindi era tutto finto rigorosamente finto che egli consentiva di calibrare anche le incongrui luci che entravano dentro i suoi quadri i suoi quadri proprio perché ricorreva a questo artificio realizzativo sono quinti architettoniche chiuse che impediscono di sporgerci al di là dell'orizzonte sono carceri dell'immaginazione sfiorate da luci raffreddate irreali mai mediterranee sempre nordiche dietro queste sbarre ci sentiamo come prigionieri i nostri movimenti si svolgono all'interno di bordi solidi come quelli dipinti da De Chirico ma esattamente come in Kafka uno slancio ci porta oltre il visibile siamo dentro recinti ma avvertiamo l'esigenza di allontanarci da essi l'epilogo calviniano e qui ho fatto un piccolo gioco letterario rimontando un po' come lui fa con De Chirico ho rimontato dei frammenti del suo testo delle città invisibili quindi provo a leggervi questo mio piccolo rimontaggio la verità è presto detta da quando sono entrato in questa città la città è entrata in me dentro di me non c'è posto per nient'altro non so da quanto tempo sto vagando attraverso questa città non ricordo quali passioni o turbamenti offuscavano il pensiero fuori da qui alle volte penso che andando avanti sempre più nel cammino che questa città mi indica arriverò a ricomporre qualcosa che si è spezzato alle volte invece mi pare che sia stata consumata una separazione definitiva ma separazione tra cosa e cosa questo non lo so Calvino è in questo modo che coglie il senso della poetica di De Chirico che è un pittore eminentemente topologico che ha fatto dell'attenzione alla polis il motivo ricorrente della propria ricerca con una piccola parentesi di disattenzione che coincide con la stagione del ritorno all'ordine e con la fase in cui si abbandona a un secentismo naturalistico De Chirico non si è mai allontanato dall'ossessione della città ma qual è la città a cui pensa De Chirico è una città che non ha nulla a che vedere con i deserti dell'astrazione non ha nulla a che vedere con le esplosioni del futurismo è una città nella quale tutto è perfettamente leggibile e tutto è insieme imprendibile è un mondo fantastico ma privo di fantasmi è espressione del talento di quello che nel testo a parer mio più felice che sia stato dedicato a De Chirico Jean Cocteau ha definito lo spaisaggismo De Chirico è inventore di una forma di spaisaggismo Cocteau lo definiva esattamente lo spaisaggista cioè colui che prende in contropiede il paesaggio che viola profana il paesaggio lo spaisaggista è colui che e uso ancora un'immagine di Cocteau opera come un criminale che dapprima rassicura la propria vittima e poi la colpisce alle spalle in fondo De Chirico opera come un decostruzionista antelitteram rispetto alla città vale a dire che disintegra la comunicazione familiare attraverso il linguaggio stesso della familiarità attinge a documenti visivi veri mandando in frantumi le relazioni consolidate tra le parole e le cose per arrivare a creare città assurde De Chirico preleva dettagli che poi riporta in un caos instabile frantuma i temi urbani e li sottomette a un'opera di isolamento insieme di confronto tratta eterogene memorie visuali come tessere di mosaici nei quali le architetture vengono rimescolate come se fossero delle impossibili carte da giochi dei tarocchi in fondo è un aspetto sul quale spesso la storiografia non si è soffermata De Chirico compie dei veri e propri ready made iconografici ovvero acquisisce icone urbane già esistenti che poi disloca in altri scenari ciascun elemento in sé riconoscibile l'incontro con gli altri elementi assolutamente incongro e impensabile dunque la sfida sta nel far affiorare le similitudini insepolte tra elementi architettonici distanti e differenti intrecciare in maniera indissolubile il momento semiotico con il momento ermeneutico per dar vita a quella che mi piace definire una cabala urbanistica assurda ovvero una metafisica concreta una metafisica immanente per descrivere questa operazione mi piace ritornare a una definizione data da un architetto urbanista che mi è capitato spesso di rileggere che è Andrei Corboz che ha parlato di ipercittà le città metafisiche sono delle ipercittà sono geografie del dubbio nelle quali le realtà diverse si ritrovano e acquisiscono vibrazioni inattese per ricorrere a questa operazione mi piace ritornare a una figura retorica che ci consente di capire i giochi assurdi dei chirichiani il quale nei propri assemblage ci presenta monaco firenze torino parigi ferrara new york sono città che tuttavia possiamo intuire soltanto attraverso alcuni brandelli alcuni barlumi sulla superficie delle opere di chirico si vedono delle delle vedute nelle quali situazioni reali confluiscono con altre situazioni reali che però nella realtà non si sono mai ritrovate insieme ciò che tiene insieme che fa combinare queste differenze è la figura dell'analogia la figura dell'analogia che è concepita da De Chirico come artificio per comprendere meglio la condizione urbana per caricare le immagini di riferimenti simbolici e di sollecitazioni inconsce per fondere luoghi diversi in audaci collage proprio all'analogia e qui compare la diciamo la figura che inizialmente doveva essere il terzo protagonista del mio intervento che adesso è diventato un po' una comparsa proprio alla figura dell'analogia Aldo Rossi aveva dedicato una una tavola che ha avuto una larghissima fortuna presentata alla Biennale del 1976 intitolata appunto la città analoga qui c'è Alberto Ferlenga che ha studiato in maniera molto approfondita svelando anche una serie di riferimenti non del tutto evidenti sottesi a quest'opera beh è un'opera che ha qualcosa di dechirichiano è un montaggio di varie fotocopie planimenterie urbane progetti il castello di Bellinzona di Reiklin e Rainer scorci collinari lacustri citazioni vaghe piranesiane figure di Tanzio da Varallo i vari dati e cito Aldo Rossi sono formalmente definiti ma il risultato finale imprevisto nasce così citazione una Venezia analoga la cui formazione è compiuta con elementi certi e legati alla storia dell'architettura come della città ecco l'analogia l'analogia il demone dell'analogia di Malarmiana memoria relazione di similarità e corrispondenza tra elementi che hanno tratto che hanno alcuni tratti in comune principio inconscio di associazione tra forme contigue l'analogia costituisce l'essenza di ogni creazione linguistica e simbolica e pulsione verso una geometria nascosta verso un ordine che è l'ombra di un senso assente verso una lingua la cui impossibile perfezione passa attraverso l'inquietudine della forma ma il demone dell'analogia è anche angoscia per la separazione tra il nome e la cosa tra l'immagine e la parola tra il senso e la lettera a me pare che proprio sul filo di questa figura retorica avvenga l'incontro fra De Chirico tra Calvino e De Chirico in cui Calvino sembra suggerire un processo di identificazione poetica che procede per vie laterali inevitenti e a me mi sono interrogato a lungo in questa occasione su quali possano essere i punti di reale attrazione tra De Chirico tra Calvino e De Chirico io credo che la storiografia non sia ancora soffermato su questo aspetto io credo che Calvino riconosca in De Chirico qualcosa di sé riconosce riconosce probabilmente un rapporto controverso e ambivalente con l'avanguardia in fondo siamo di fronte avrebbe detto Kundera due modernisti antimoderni rispetto all'avanguardia sono due autori che intrattengono un uso libero fanno un uso libero del tempo entrambi fanno un uso profondamente libero del tempo il tempo per loro è materia da smontare da rimontare infinitamente in maniera assolutamente sempre imprevedibile entrambi rifiutano in essi ordinati entrambi rifiutano quelli che ancora Kundera chiamava i riempimenti delle narrazioni rompono i ponti Calvino nella narrazione De Chirico nella pittura insieme prediligono quello che cinematograficamente potremmo chiamare un montaggio delle attrazioni è un artificio che senza enunciare condividono come condividono il gusto per l'accostamento tra sequenze staccate incurante ed in essi prevedibili stamattina Daniela Broggi citava la parlava del rapporto con Fellini e credo che in fondo esista un'area di famiglia che accomuna queste tre personalità lontane ma insieme e sottilmente vicine e forse proprio alla luce di questo che possiamo riaccostarci a un libro che a me piace leggere quasi come un prologo del racconto letto al Pompidou nel 1982 ovviamente sto parlando delle città invisibili a me piacerebbe fare questa operazione di piccola forzatura critica ovvero di considerare la le città del pensiero come l'epilogo delle città invisibili una sorta di compimento delle città invisibili qui non mi soffermo potremmo soffermarci a lungo ci sono italianisti molto attenti a questi che hanno scritto tanto anche in sala sulle città invisibili e quindi non voglio avere l'ardire di spingermi su un territorio che non è il mio però c'è qualcosa che a me ha colpito ed è un'inclinazione che accomuna Calvino a De Chirico nel modo di pensare le città invisibili in fondo le città invisibili sono spazi che si slanciano verso le vette del fantastico ma appoggiano sempre su un basamento pesante vivono tra il senza confine del cielo e gli umori della terra tra il vuoto e la sostanza tra ciò che è luminoso nell'inaccessibile e ciò che è nascosto nel manifesto sono spazi aerei eppure ritagliati nel vivo di una materia sono impastati di emozioni e di idee sono luoghi nei quali materiali di spazi fisici sono rimodulati attraverso abili raccordi analogici è un gioco che in tanti hanno fatto quello di riconoscere dietro le città di Calvino alcune città vere smeraldine è un po' venezia olivia è un po' parigi clarice è un po' roma maurilia è un po' avvolta dalle nebbie padane tanto care a marco belpoliti pentisilea è un po' una trasfigurazione delle megalopoli statunitensi ci sono tante tante assonanze ecco a me pare che proprio attraverso in dialogo con De Chirico De Calvino scopra qualcosa che gli apparteneva già è un po' riconoscere un un artista che aveva parlato la sua stessa lingua io credo che ci sia un problema di dialogo nella distanza è proprio attraverso il dialogo con De Chirico che Calvino mi pare svelare le ragioni sottese alla sua filosofia dell'arte credo che vada ringraziato davvero Marco Belpoliti per il prezioso volume antologico pubblicato da Mondadori guardare che d'ora in avanti sarà un giacimento per tutti coloro che un po' anche sulle orme della sua ricerca vorranno continuare a interrogare gli sguardi di Calvino sul visibile e sulle arti e credo che proprio questo libro che diciamo ha una è una sorta di meridiano aggiunto diciamo la verità è una quasi è concepito un po' come un meridiano aggiunto emergono e emerge un'inconfondibile postura calviniana rispetto alle arti alcuni motivi ricorrenti il rapporto con le immagini il visibile come domanda aperta il guardare come necessità il potere appunto delle immagini intese come origini come punto di partenza e non come inciampo ecco De Chirico Calvino proprio come De Chirico si lascia sorprendere da ciò che esiste da alcuni barlumi di mondo poi li fa agire dentro di sé li contamina con altri affioramenti infine li sottopone a mascherate a profanazioni non senza contaminarli con teorie cosmologiche i tarocchi al termine di questo processo esattamente come in De Chirico dell'immagine iniziale resta poco un'impronta un vestigio ecco più ho sentito già stamattina riprendere questa cele questo celebre passaggio delle lezioni americane che anch'io voglio menzionare oggi la fantasia è un posto dove ci piove dentro ecco è una confessione di poetica che anche De Chirico avrebbe potuto far sua è una confessione di poetica che coglie anche il senso profondo della ricerca dei maestri dell'arte combinatoria che Calvino ha amato io credo che Calvino abbia scritto su tanti artisti ma abbia scelto prevalentemente coloro che si inchinavano un po' cito memore di Giordano Bruno all'arte combinatoria oltre a De Chirico Paul Klee Picasso Gnoli Steinberg Melotti Paolini Adami Serafini Bai Pericoli artisti molto diversi ma con questo elemento che li accomuna pittori diversi accomunati dall'inclinazione a oscillare tra una dimensione invisibile e una visibile sapienti nelle abitare le altezze del cielo e gli umori della terra attratti da ciò che è luminoso ma soprattutto abili nel montare insieme differenze nel tenere insieme realismo metafisica e surrealismo chiudo chiudo andando al a una figura ecco è una figura molto cara a De Chirico che Calvino commenta nella conferenza lezione racconto al Pompidou e Arianna Arianna alla quale De Chirico ha dedicato una vera e propria serie di opere riprese ampiamente anche nel dopoguerra spesso sola trasfigurata se vedete c'è sempre un gesto di profanazione rispetto alla ripresa del motivo archeologico tradizionale fuori scala protagonista assoluto di tante piazze d'Italia Arianna ci invita a riflettere sulle figure legate alla sfera del mito che anche se spesso nascoste continuano a farsi sentire sono vestali che non hanno mai abbandonato il mondo lo abitano lo difendono attraverso travestimenti e parodie una volta Roberto Calasso ricordava come gli dei abitano attraversano la nostra epoca come degli ospiti fuggevoli e sono diventati simili a bandiere infrante spezzate bene probabilmente sono quelle figure alle quali Calvino aveva dedicato un testo col quale davvero voglio chiudere uscito nel 1975 vi si parla della città come di un corpo che si sviluppa tra catastrofi distruzioni rinascite un organismo che nei secoli cambia ridefinendo caratteri e fisionomie un insieme di segni di scambi di merci di desideri di emozioni scrive Calvino crediamo di continuare a guardare la stessa città e ne abbiamo davanti un'altra ancora inedita ancora da definire per la quale valgono le istruzioni per l'uso diverse e contraddittorie eppure aggiunge Calvino vi sono sempre permanenze alcuni motivi ricorrenti scrive occorre non perdere di vista quale è stato l'elemento di continuità che la città ha perpetuato lungo tutta la sua storia quello che l'ha distinta dalle altre città e le ha dato un senso e l'anima mundi verrebbe da dire esiste un programma implicito che la metropoli la polis deve continuamente ritrovare se non lo fa aggiunge Calvino rischia l'estinzione questa origine prosegue era stata colta dagli antichi i quali in un sottile intreccio tra vaghezza poetica e precisione scientifica avevano rappresentato lo spirito della polis evocando i nomi degli dei che avevano presieduto la sua fondazione quegli dei suggerivano cito attitudini vitali del comportamento umano e dovevano garantire la vocazione profonda della città ed erano personificazioni di elementi ambientali un corso d'acqua una struttura del suolo un tipo di vegetazione la città scriveva Calvino deve al momento giusto sotto forme diverse ritrovare i suoi dei ecco che cosa sono in fondo le città del pensiero che cosa sono le città invisibili se non ostinati coraggiosi e disperati tentativi per riportare qui nel nostro tempo fragile la presenza inafferrabile e segreta degli dei grazie 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 al professor Trione ora c'è una pausa abbiamo concluso questa sessione e riprendiamo alle 16 e 30 con Lucia Re a presiedere grazie grazie a tutti voi per le vostre relazioni e complimenti allora io sono Lucia Re e volevo semplicemente ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo convegno io vengo dall'università della California di Los Angeles e volevo ringraziare gli organizzatori in particolare Laura Di Nicola per avermi invitato a far parte seppur così in un ruolo abbastanza marginale di questo convegno e ringraziamo vorrei ringraziare anche Giovanna Calvino naturalmente il laboratorio Calvino e tutti quelli che ci lavorano e dire anche che Laura Di Nicola ha contribuito un bellissimo saggio a un volume sulle lezioni americane di Calvino ovviamente che è appena uscito nella rivista che io curo per l'università della California che si chiama California Italian Studies e il numero appena uscito appunto in occasione del compleanno di Calvino lo stesso giorno è dedicato alle lezioni americane si chiama Calvino's Memos Between the Old and the New Millennium ed è disponibile free access cioè chiunque online basta cercare California Italian Studies Allora la prima relatrice questa sera è Sabina Longitano Sabina Longitano è professore ordinario presso la Università Nazionale Autonoma di Mexico Facoltà di Filosofia e Letras si è occupata di letteratura italiana dal Medioevo a oggi in particolare dell'opera e del linguaggio di Andrea Camilleri e della diffusione e ricezione della letteratura italiana all'estero in particolare nel mondo iberico in Messico naturalmente e nella cultura latinoamericana in generale ha curato tra l'altro vari volumi basati sulla conferenza annuale credo che sia biennale organizzata dalla cattedra Italo Calvino di Città del Messico dell'Università che ogni due anni è su Calvino giusto? No è dedicata a Calvino quest'anno quest'anno sarà su Calvino quindi recentemente ha curato il volume del 2020 che si intitola Da Dante a Camilleri e studio sopra letteratura e cultura italiana che raccoglie appunto la molteplicità di interventi presentati in occasione della conferenza e giornata internazionale di studio della cattedra Italo Calvino su Calvino ha pubblicato tra l'altro il saggio Calvino intellettuale contro la guerra incontra cantacronache quindi date il benvenuto a Sabina Longhitano il cui la cui relazione si intitola pensare col corpo un'analisi del cavaliere inesistente Buonasera è un grande onore essere qui ringrazio Mario Barenghi tutto il laboratorio Calvino l'organizzazione del congresso una dimensione fondamentale della narrativa e del pensiero critico di Calvino è una ricerca stilistica che traduca in parole lo sguardo l'esperienza fenomenica di un soggetto cosciente e critico che non soccombe al datum naturale al mare dell'oggettività la soggettività umana che interpreta l'oggettività del mondo sempre scriviamo di qualcosa che non sappiamo scriviamo per rendere possibile al mondo non scritto di esprimersi attraverso di noi l'idea della letteratura come uno strumento ermeneutico specifico per interpretare e dar forma all'esperienza per decifrare il mondo viene messa in pratica nella narrativa calviniana cos'altro sono le cosmicomiche t con zero se non una traduzione fantastica di teorie scientifiche in esperienza fenomenica soggettiva individuale nelle parole di calvino io questo antropomorfismo l'ho accettato e rivendicato in pieno come procedimento letterario fondamentale antropomorfismo come impossibilità di pensare il mondo se non attraverso figure umane la letteratura ha una propria ermeneutica un'ermenetica autonoma come appunto nell'altra citazione il romanzo deve può scoprire il modo i mille i centomila nuovi modi in cui si configura il nostro inserimento nel mondo esprimere via via le nuove situazioni esistenziali il recente incontro fra studi letterari e scienze cognitive permette di esplorare questa e altre intuizioni calviniane con ipotesi sulle funzioni evolutive e cognitive della letteratura e sugli effetti cognitivi che deriviamo nell'interpretazione a partire da ciò che sappiamo sulla comunicazione e sui processi cognitivi di noi animali umani in una prospettiva evolutiva l'arte in generale la letteratura la fiction in particolare si considera un adattamento estremamente vantaggioso a fine al gioco che ci accomuna gli animali non umani come un'attività offline che si svolge in un ambiente sicuro e protetto e sviluppa esercita e affina abilità fisiche cognitive e sociali indispensabili per la nostra sopravvivenza come specie il testo letterario è fatto di parole è un tipo di discorso cioè un uso di una lingua naturale in un contesto che non è un datum bensì una rappresentazione mentale costruita come un terreno comune rispetto ad altri tipi di discorso il discorso letterario è un artefatto cognitivo cioè uno strumento costruito con un'attenzione alla forma per elicitare risposte cognitive complesse precise e raffinate è un artefatto fatto di parole verbale che comunica l'intenzione stessa di comunicare un determinato contenuto verbale ostensivo se crediamo ancora che la comunicazione funzioni così non andiamo molto lontano questo notissimo schema di Jacobson vecchio di un secolo ma ancora usato prima di tutto suppone un'identità una relazione a problematica fra il pensiero e il linguaggio in secondo luogo considera la lingua come un codice in un codice c'è sempre un rapporto uno a uno fra un significante e un significato per esempio i pezzi della scacchiera i cartelli stradali e il rosso e il verde del semaforo perché il giallo si interpreta in maniera diversa secondo la cultura stradale di ogni paese infine questo schema considera il contesto di interpretazione come un datum oggettivo e aproblematico in una prospettiva pragmatica che è quella che è adotto l'obiettivo della comunicazione verbale ostensiva è quello di cambiare in maniera significativa cioè pertinente l'ambiente cognitivo dell'interlocutore l'enunciazione o il testo rappresenta un'evidenza di questa intenzione quindi l'ostensione come opposta alla comunicazione accidentale non intenzionale la lingua sottodetermina necessariamente ciò che si vuole comunicare abbiamo molti più concetti che parole la decodificazione degli aspetti sintattici e semantici va completata inferenzialmente vanno assegnati i referenti vanno risolte ambiguità e soprattutto vanno costruiti i concetti ad hoc per derivare contenuto esplicito e implicito a partire dal riconoscimento di intenzioni comunicative specifiche il contesto è una rappresentazione mentale reciproca di un terreno comune informazioni che ciascuno dei due interlocutori rappresentano come reciprocamente manifeste cioè presenti nella mente di entrambi implica quindi una reciproca lettura della mente in realtà non si leggono le menti ma i corpi cioè il comportamento degli altri e anche il loro comportamento verbale il risultato è una rappresentazione del significato comunicato sufficientemente simile per gli obiettivi della comunicazione a quello che l'interlocutrice aveva in mente e quindi l'idea di pertinenza di relevance di un'informazione per un individuo non è un valore assoluto ma una relazione positiva fra quantità e qualità di effetti cognitivi e sforzo di processamento che deve essere commisurato agli effetti cognitivi che ci si aspetta è la teoria della pertinenza o relevance theory vediamo per esempio il dialogo iniziale fra Agilulfo e il re Carlo Magno e voi lì messo su così pulito disse Carlo Magno che più la guerra durava meno rispetto della pulizia nei paladini gli capitava di vedere ciò che Carlo Magno lascia implicito viene esplicitato da un narratore di cui non sappiamo ancora assolutamente nulla ah fece Carlo Magno e dal labbro di sotto sporto avanti gli uscì anche un piccolo strombettio come dire dovessi ricordarmi il nome di tutti starei fresco lo stesso succede qui lo stimolo ostensivo è questa volta un gesto ostensivo un piccolo strombettio che il narratore interpreta come comunicazione da cui deriva delle inferenze va avanti la conversazione fino ad arrivare al perché io non esisto sire la filosofia del linguaggio avrebbe molto da analizzare qui da Hume a Kant a Frege se l'esistenza è o no un vero predicato un predicato degli individui eccetera comunque siamo davanti a un evidente paradosso o questa poi infatti dice Carlo Magno fate un po' vedere un meccanismo cognitivo fondamentale è quello della vigilanza epistemica si controlla la fonte dell'informazione la comunicazione serve anche a mentire e a manipolare gli altri l'elmo era vuoto a questo punto c'è un'evidenza condivisa mutuamente condivisa Carlo Magno e a Gelulfo hanno la stessa evidenza ma ma quante se ne vedono è come che fate a prestare servizio se non ci siete con la forza di volontà è già ben detto è così che si fa il proprio dovere beh per essere uno che non esiste siete in gamba non mi interessa se non esisti implica il discorso di Carlo Magno basta che ti comporti come se esistessi l'imperatore voltò il cavallo e si allontanò era vecchio e tendeva ad allontanare dalla mente le questioni complicate davanti alla rivelazione di Agilulfo Carlo Magno rinuncia a capire la questione gli richiede un eccessivo sforzo cognitivo noi lettrici invece a partire da questo momento cominciamo a derivare dall'evidenza dell'elmo vuoto e dalle parole di Agilulfo le prime inferenze che ci permettono di costruire un contesto di interpretazione c'è un forte contrasto fra l'esplicito e paradossale perché io non esisto sire e l'implicito e com'è altrimenti con cui Agilulfo risponde alcune pagine più avanti alla stupita domanda di Rambaldo com'è? tu sai com'è esserci io so com'è non esserci implica la risposta di Agilulfo ed esserci significa avere un corpo due modi riducibilmente diversi uno dei quali controfattuale di stare al mondo fra gli effetti cognitivi dell'interpretazione della fiction c'è la gestione della controfattualità nella creazione di mondi alternativi si mettono in gioco i meccanismi della narratività sequenza degli eventi gestione delle relazioni spazio-temporali causa-effetto descrizioni eccetera che dipendono dalle nostre conoscenze intuitive della realtà indipendentemente dalla differenza fra il mondo finzionale e il nostro ci aspettiamo infatti di riconoscere la vita in un testo a vari livelli descrizioni ritmo della narrazione costruzione dei personaggi e delle loro relazioni plausibilità dei loro movimenti e azioni collocazioni linguistiche scelte stilistiche come ci insegna il calvino delle lezioni americane la base cognitiva del riconoscimento della vita si definisce come biologia ingenua la capacità di distinguere gli esseri viventi dalla materia a partire dal loro comportamento i bambini appena nati cercano occhi e movimento autonomo sono sensibili al movimento autonomo ci aspettiamo che gli oggetti inanimati si comportino in un modo plausibile all'interno del mondo creato perché esercitiamo la nostra fisica ingenua la nostra conoscenza intuitiva del comportamento dell'amatec applichiamo agli esseri viventi e quindi ai personaggi di una narrazione una psicologia ingenua o teoria della mente a partire dall'osservazione del loro comportamento attribuiamo loro pensieri convinzioni desideri intenzioni emozioni diversi dai nostri nell'interpretazione della fiction come nella vita reale ci dilettiamo e ci impegniamo a seguire ciò che i personaggi hanno in mente ciò che pensano sentono desiderano credono di sapere ciò che pensano che gli altri credano pensino o desiderino per esempio nel primo incontro di Rambaldo con Agilulfo noi lettrici sappiamo che lui non sa che Agilulfo non esiste Rambaldo lo scopre subito dopo nella conversazione con i due in brattacarte della sovrintendenza le macchie dell'onore comica proprio perché i due non sanno che Rambaldo non sa che Agilulfo non esiste e quindi lo implicano il naso che non ha la rogna che non ha eccetera qualcosa che loro considerano come un terreno comune e quindi un contesto di interpretazione va invece esplicitato questo insieme all'evidenza degli stessi imbrattacarte col contrasto fra l'apparenza dell'elmo piumato e la realtà delle due teste calve gialline dalla pelle tutta borse produce una dissonanza cognitiva in Rambaldo per risolverla deve rimodulare ciò che sta sul mondo e riesce anche ad essere amaramente ironico ormai non si lasciava più ingannare dalle corazze e dagli elmi piumati è ancora grazie che c'era dentro qualcuno un altro esempio Torismondo è sicuro che Sofronia sia sua madre e di essere figlio dei cavalieri del sacro graal e quindi agisce di conseguenza sfilando a Gilulfo che è invece convinto della verginità di Sofronia che è la sua stessa ragion d'essere il loro comportamento è motivato da ciò che credono nella buona fiction come nella nostra esperienza ma quando Torismondo scopre la verità mostra di nuovo la propria flessibilità cognitiva la propria resilienza parola molto alla moda risolve cioè una dissonanza cognitiva adattandosi alla nuova situazione e traendone vantaggio a Gilulfo invece rigido come è rigido l'Orlando Ariostesco quando perde il senno non scopre a tempo la verità perde quindi la propria ragione d'essere la propria intenzionalità e coerentemente con le premesse fantastiche si deve dissolvere nella comunicazione verbale ostensiva applichiamo una teoria comunicativa della mente perché inferiamo le intenzioni dell'interlocutore da ciò che dice cioè dal suo comportamento verbale che ci offre indizi molto diversi da quelli offerti dal comportamento fisico da ciò che si esplicita e ciò che si lascia implicito si costruisce attivamente un contesto di interpretazione come un terreno comune nella fiction l'interlocutore è una voce narrante inferiamo le sue intenzioni comunicative sia dalla narrazione che dalla caratterizzazione dei personaggi che include il loro comportamento verbale ciò che dicono come lo dicono e ciò che lasciano implicito nell'incipit non sappiamo niente di questa voce narrante nel capitolo 4 scopriamo che si tratta di suor Teodora ma è solo nel capitolo finale che ci rendiamo conto che essa coincide con Bradamante la nostra prospettiva sulla storia narrata continua quindi a cambiare perché cambia la metarrappresentazione di chi la narra della sua esperienza delle sue motivazioni prospettive desideri orizzonti e obiettivi comunicativi suor Teodora si dichiara ignorante del mondo dovete compatire sia ragazze di campagna ancor che nobili vissute sempre ritirate eccetera tutto ciò che dice è un understatement fuorché funzioni religiose tritui novene lavori dei campi trebiature vendebili fustigazioni di serbi incesti incendi piccazioni piccagioni eccetera noi non si è visto niente sciolina invece davanti agli occhi dell'elettrice gli elementi chiave di quel mondo per costruire un terreno comune il cosa può sapere del mondo una povera suora è quindi comico perché la povera suora ne sa sicuramente più di chi legge vedi le tre o quattro battaglie campali i cadaveri eccetera possiamo sglossare in termini di effetti cognitivi meccanismi retorici come quello dell'enumerazione la congeries della reticenza che crea l'understatement dovete compatire ragazze di campagna recluse eccetera e quindi la risposta implicita alla domanda retorica cosa può sapere del mondo una povera suora non è niente ma è moltissimo un'inversione delle aspettative che crea un effetto comico la rivelazione finale dell'identità di sorteratore Bradamatte si proietta retrospettivamente su tutta la narrazione e ci permette di derivare nuove inferenze notiamo inoltre questa splendida sintesi calviniana della relazione tra la narrazione e la vita la pagina è il suo bene solo quando la volti e c'è la vita dietro che spinge e scompiglia tutti i fogli del libro la penna corre spinta dallo stesso piacere che ti fa correre le strade il capitolo che attacchi e non sai ancora quale storia racconterà è come l'angolo che svolterai se esiste un continuum e non una differenza ontologica fra comunicazione ordinaria e comunicazione letteraria una potenzialità della comunicazione che il discorso letterario sviluppa a un grado massimo è l'intenzione di comunicare l'ineffabile nella poesia nel romanzo nella fiction ma di fatto in misura diversa anche in un reportage nella recensione di uno spettacolo o di un ristorante perché sono delle esperienze ci aspettiamo di derivare non solo inferenze cioè informazioni a cui possiamo assegnare un contenuto proposizionale vero o falso ma anche effetti cognitivi diversi relativi allo stare al mondo alla nostra esperienza vitale che non si ottengono per mezzo di inferenze ma attraverso l'immaginazione che ha una base analogico-esperienziale è un'attività creativa un potente meccanismo cognitivo la vecchia e utile idea di verosimiglianza quindi assume un significato preciso di plausibilità cognitiva ci aspettiamo che la narrazione riproduca sia a fine rispetti non o non necessariamente il mondo reale il mondo come lo conosciamo ma il nostro modo di percepire e rappresentare la realtà i nostri processi cognitivi fino all'ultimo quarto del secolo scorso la filosofia della scienza e della mente tendeva decartianamente a ridurre la cognizione e la coscienza umana al pensiero razionale espresso in proposizioni e governato dalla logica comunicabile senza residui in una lingua naturale le percezioni le emozioni l'esperienza dello stare al mondo che di fatto accomunano ogni essere vivente definite come qualia erano generalmente considerate scientificamente intrattabili e quindi poco pertinenti per una definizione materialista fisicalista del pensiero e della coscienza il dibattito si riapre negli anni 70 del secolo scorso attualmente una parte delle neuroscienze e delle scienze cognitive considera le percezioni e le emozioni come un aspetto fondamentale indispensabile della cognizione del pensiero e della coscienza di ogni essere vivente e non solo degli animali umani o dei primati o dei mammiferi con enormi ricadute etiche la mente e la coscienza sono funzioni biologiche la cognizione non è annidata nel corpo e da esso dipende la famosa citazione di Damasio nobody never mind le percezioni e le emozioni non si considerano più come informazioni intrattabili perché ibride bensì come un dato un innegabile che bisogna spiegare come strettamente necessario per la vita la cognizione la coscienza degli animali umani e non umani come scrive Seth questa citazione che c'è qui definire la coscienza è capire la relazione fra l'esperienza soggettiva e i processi biologici e fisici delle menti e dei corpi che ad essa soggiacciono la scienza della coscienza è la spiegazione di chi siamo di cosa si prova ad essere me o ad essere te ed è il perché si prova qualcosa come essere in primo luogo l'immaginazione è quindi riconosciuta come un'attività pienamente cognitiva che rielabora creativamente informazioni ibride in quanto a formato e a provenienza la produzione e interpretazione di storie l'attività letteraria insomma ne sono un potentissimo strumento e Calvino lo esplicita quando scrive in polemica con l'interpretazione allegorico-politica di Pedullà il cavaliere inesistente è una storia sui vari gradi di esistenza dell'uomo sui rapporti tra esistenza e coscienza tra soggetto e oggetto è una trasfigurazione in chiave lirica di interpretazioni e concetti che ricorrono continuamente oggi nella ricerca filosofica antropologica sociologica storica il discorso letterario è saturo di risposte somatiche fisiche sensoriali emotive nella forma ritmo rima anafore parallelismi assonanze onomatopee e nel contenuto evocazione di percezioni ed emozioni attraverso immagini mentali rappresentazioni non solo visuali ma multisensoriali pensiamo al ritmo lento dell'incipit e chi siete voi palladino di Francia che accelera nel dialogo con Agilulfo e implode nel rompete le righe finale del capitolo o al lancio del pugnale di Bradamante sorpresa da Rambaldo nell'atto di far pipì non col gesto cito non col gesto della perfetta maneggiatrice d'armi che essa era ma con lo scatto rabbioso della donna inviperita che tira in testa all'uomo qualsiasi cosa ha per mano Agilulfo non può immaginare cosa sia il sonno e la sua impietosa rappresentazione della vecchia carne d'adamo viene proprio dalla mancanza di un corpo per il quale prova un'invidia vaga come di qualcosa che non si sa nemmeno concepire un disagio somigliante all'invidia ma anche una stretta che era d'orgoglio di superiorità sdegnosa assistiamo alla rappresentazione impietosa della vecchia carne d'adamo vista dagli occhi di Agilulfo altre volte il banchetto dei paladini la sepoltura dei cadaveri eccetera sebbene non abbia un corpo Agilulfo prova emozioni una vaga invidia infelicità timidezza e la sua smania di controllare tutto la sua sofferenza acuta per ciò che è fatto male fuori posto cosa sono se non insieme un'emozione e un desiderio di perfezione coerentemente con le sue premesse fantastiche Agilulfo prova invidia e rabbia perfino per il misero corpo dei pipistrelli comunque tangibile e sicuro con loro sbatacchiare in soffice volo a bocca aperta inghiottendo zanzare mentre lui con tutta la sua corazza era attraversato ogni fessura dagli sbuffi del vento dal volo delle zanzare e dai raggi della luna i pipistrelli mi portano inevitabilmente a un vertiginoso articolo di Thomas Nagel scritto 15 anni dopo il cavaliere inesistente attenzione nel 74 ora considerato una pietra miliare della filosofia della mente intitolato what is it like to be a bat che è uno dei primi ad affrontare il problema della coscienza come esperienza del mondo estensibile a molti se non a tutti i livelli di vita animale non importa quanto la sua forma possa variare ma il fatto che un organismo abbia una qualsiasi esperienza cosciente significa significa che esiste qualcosa come essere quell'organismo dice Nagel insomma la coscienza non è affatto una prerogativa umana è intimamente radicata al nostro modo di stare al mondo si inaugura una serie di argomenti come spiegare l'esperienza della rossezza come descrivere la cioccolatità e di programmi scientifici che si interrogano sul carattere soggettivo dell'esperienza negli ultimi vent'anni si sono moltiplicati gli studi sulla cognizione degli animali non umani da quelli più vicini a noi come i primati di De Waal allo studio di altre menti di Peter Gottfried come quelle dei polpi annidate in organismi diversi e quindi strutturate in una maniera radicalmente diversa dalla nostra questa intuizione scientifica era già stata esplorata poeticamente da Calvino proprio attraverso la rappresentazione paradossale controfattuale di una coscienza senza corpo osserviamo cosa è successo le riflessioni di non posso leggere questa citazione la parlo rapidissimamente le riflessioni di Suor Teodora mentre si chiede come potrà tracciare una mappa del percorso dei paladini la mappa è una meta rappresentazione Calvino rappresenta Suor Teodora che si interroga sulle possibilità di rappresentazione di una mappa e i suoi limiti pennutezza e nocchierutaggine sembra noccheggiare il dibattito sul quale Suor Teodora desidera creare una mappa dell'andare di ciascuno dei personaggi che rappresenti la loro coscienza il loro modo di stare al mondo e conclude chiedendosi se non sarebbe meglio limitarsi a una banale mappa geografica con paesi puntini e linee uno strumento di analisi che riassume molti degli aspetti che abbiamo trattato è basato sul concetto di affordance che secondo me andrebbe tradotto come dispositivo o disponibilità l'affordance è il meccanismo cognitivo su cui si basa la capacità degli animali umani e non umani di creare strumenti solo un rametto con la forma giusta può servire per estrarre un insetto da un buco un oggetto offre varie possibilità d'uso varie affordances determinate dalla sua forma dai nostri obiettivi e dalla nostra creatività posso usare il manico di un ombrello per cogliere una mela o per appenderci una giacca ma non per sedermici sopra l'affordance è il ponte cognitivo l'insieme delle relazioni cognitive delle potenzialità offerto da un oggetto reale o immaginario è comunque una rappresentazione mentale Terence Cave considera il testo letterario come una affordance animata in cui la sottospecificazione invita a completare con l'immaginazione e questo giustifica un'analisi in termini cinetici di percezione mutua posture fisiche e gesti e ci porta nel labirinto delle menti degli altri ciò che credono sentono le loro intenzioni promesse e inganni il motore della nostra narrazione è l'affordance di un'armatura vuota animata dalla pura forza di volontà una variazione sul tema del decartiano cogito ergo sum un volo ergo sum infine per concludere un cavaliere che sa di esserci ma non c'è permette appunto a forza è un dispositivo che permette la costruzione speculare di uno scudiero che c'è ma non sa di esserci Gurdulù è completamente assorbito dal mondo sensibile che lo circonda è tutt'uno con esso immerso nel mare dell'oggettività tutto è zuppa questa contrapposizione si rappresenta in termini stilistici parallelismo anafora chiasmo antitesi non sa di esserci ma non c'è versus c'è ma non sa di esserci ma anche in termini cognitivo emotivi per esempio rispettivi flussi di coscienza quando seppelliscono i morti Agilulfo ho morto tu non hai tu sei questa carcassa quello che io non avrò mai Gurdulù vedi che tu sei più bravo a vivere di me o cadavere tu continui a vivere cresci capelli e unghie eccetera entrambi i flussi sono in controcanto rispetto al flusso di coscienza pienamente umana di Rambaldo o morto io corro corro per arrivare qui come te a farmi tirar per i calcani l'opposizione Agilulfo Gurdulù è rappresentata anche in termini cinetici la rappresentazione del loro comportamento tanto i movimenti di Agilulfo sono esattamente determinati quanto quelli di Gurdulù sono erratici e volubili mostrando un'assoluta identificazione con i multiformi aspetti del mondo e una inquietante inconscienza di sé e perfino della propria unità della propria individualità corporea come nel dialogo col piede punto dal porco spino e si potrebbe di nuovo analizzare in controcanto i movimenti pienamente umani di Rambaldo o di Bradamante è così che mi sembra che a partire anche da quello che abbiamo visto in questi giorni Calvino in certi aspetti sembra veramente prefigurare profetizzare quasi alcuni delle nuove scoperte che si sono fatte sulla cognizione ma dall'altro molto più logicamente con l'ermeneutica della letteratura possiamo dire la letteratura queste cose le sa Calvino le sa molte grazie 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 mille la coscienza che era già presente a Calvino in questa fase abbastanza prima fase della sua narrazione fantastica molto interessante grazie passiamo adesso al prossimo relatore che mi fa molto piacere presentare Robert Gordon Serena professor professor of Italian presso la University of Cambridge in Inghilterra si è occupato in particolare di letteratura italiana contemporanea e di cinema con volumi su tra gli altri Pierpaolo Pausolini alcuni volumi su Primo Levi nonché studi davvero essenziali sulla storia la letteratura e il cinema dell'olocausto e della Shoah in Italia tra cui il volume in traduzione italiana scolpitelo nei cuori l'olocausto nella cultura italiana pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2013 non so chi sia stato il traduttore mi dispiace non citarlo i suoli o ti sei tradotto da solo? no non mi ricordo il suo libro più recente è uno studio comparatistico e intermediale sul tema e i racconti imperniati sulla fortuna nel ventesimo secolo ed è intitolato Modern Luck Narratives of Fortune in the Long 20th Century ed è stato pubblicato da UCL Press proprio all'inizio di quest'anno la relazione del professor Gordon si intitola dal petrolio alla benzina Calvino Pasolini e una nuova letteratura ecopolitica la parola a Robert grazie ma ci dovrebbe essere un powerpoint come si fa? no forse il primo no no dosso regia viene per magia vedi che non bisogna fare un powerpoint inesistenza un powerpoint inesistenza abbiate pazienza c'è un inconveniente tecnico vogliamo passare all'altro relatore sei pronto? sì allora passiamo direttamente se non ti dispiace Robert passiamo mentre tu risolvi la questione della tua ok allora il prossimo relatore si scambiano di posto ed è anche un cambio di programma quindi il prossimo relatore è Federico Bertoni insegna teoria della letteratura all'università di Bologna è autore di molti saggi di critica e di teoria letteraria dedicati in prevalenza alla narrativa europea tra 800 e 900 tra i suoi lavori principali i volumi il testo a quattro mani per una teoria della letteratura romanzo la verità sospetta gadda e l'invenzione della realtà realismo e letteratura una storia possibile e letteratura teorie metodi strumenti ha curato l'edizione critica di Italo Svevo teatro e saggi in tutte le opere di Italo Svevo e nell'aprile del 2017 è uscito il suo primo romanzo morire il 25 aprile allora Federico eccoci grazie grazie della presentazione mi sa che c'è già lì sì 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 comunque per amore del gioco quindi gioco fortuna mi sa che voi avrete di cui parlare imprevisti dialettica del razionalismo in Italo Calvino grazie grazie non ho particolari effetti speciali è solo per così risparmiare un po' di tempo e risparmiare di leggere qualche citazione grazie dell'invito ovviamente questo bel convegno entro subito in argomento allora io oggi affronto come si intuisce dal titolo un argomento abbastanza circoscritto che è il gioco il motivo del gioco ma all'interno di una cornice concettuale molto più ampia legata a una macro questione dell'universo di Calvino niente po' di meno che il rapporto di Calvino molto ambiguo e problematico con il razionalismo e la razionalità allora per razionalità intendo più o meno quello che Orkheimer e Adorno dai quali notoriamente Calvino prende le distanze in questa intervista del 1968 chiamano l'illuminismo l'illuminismo inteso non come il periodo storico che va sotto questo nome tantomeno come l'ingiunzione di Kant al sapere aude ma l'illuminismo in generale come logos come razio come pensiero razionalistico anche e soprattutto forse come ragione tecnico strumentale che ha plasmato la nostra forma di vita che ha guidato il processo di emancipazione e di autoaffermazione dell'individuo moderno processo ovviamente storico che è contingente alimentato ovviamente dalla modernità borghese e capitalista ma che si tende o meglio che i francofortesi tendono a considerare come una matrice filosofica universale generale quasi una forma mentis della civiltà occidentale a partire dall'archetipo di Ulisse dicevo rapporto ambiguo e problematico perché Calvino da un lato lo sappiamo tutti si professa illuminista razionalista elogia l'esattezza invoca la ragione come strumento di conoscenza e di organizzazione del reale e cerca di fondare nella razionalità anche la sua idea di letteratura lì ho riportato un brano spesso citato di un articolo del 47 in cui definisce la letteratura un impiego di mezzi tecnici al massimo cosciente razionale un'idea che più avanti troverà poi una formulazione teorica e anche una pressi operativa nella cosiddetta cibernetica intesa come un controllo razionale anche come una programmazione in parte dei mezzi espressivi dall'altra parte però Calvino anche questo lo sappiamo per esempio in questo brano mentre prende le distanze dai francofortesi rifiuta l'etichetta di neoilluminista che gli è stata affibbiata come dice soprattutto possiamo dire sia con la sua tipica perplessità intellettuale sia con le sue inquiete e continue sperimentazioni formali Calvino non fa altro in realtà che evidenziare la fragilità e i limiti della ragione e quindi poi anche dell'approccio cibernetico alla letteratura e lo vediamo nel corso di tante fasi che sono state continuamente descritte analizzate lo vediamo che cerca strenuamente di costruire degli argini dei muri disegna mappe del labirinto sempre più sofisticate e scogita trucchi sempre più precisi minuziosi per governare il caos per ricondurre l'entropia dilagante a piccole zone di ordine e di organizzazione tutto questo chiaramente tradisce una fondamentale sfiducia o quantomeno uno scetticismo nei confronti della ragione ordinatrice ora visto che è stato lui stesso a insegnarci che la cosa fondamentale è il modo in cui guardiamo il mondo credo che un buon punto di vista per osservare tutti questi problemi piuttosto giganteschi sia appunto la nozione di gioco il gioco che a sua volta ha un rapporto complesso è un rapporto dialettico con tutto ciò che riconduciamo alla sfera della razionalità e della ragione strumentale quindi la cosiddetta vita ordinaria ammesso che sia possibile capire che cos'è la serietà l'ordine il lavoro l'utilità parto dalla cosa più semplice tempo è poco quindi vado in una rampida carrellata la cosa più semplice più immediata cioè che il gioco ha un ruolo molto evidente negli universi narrativi di Calvino innanzitutto è un materiale tematico è un ingrediente della messa in scena o della costruzione testuale potremmo ripercorrere più o meno tutta la sua produzione per campionare passo dopo passo questa presenza tematica del gioco fino ovviamente a partire dal Sentiero dei Nidi di Ragno dove Pin gioca con la pistola vera è sempre in bilico tra infanzia e mondo adulto tra cose che sembrano giochi ma non lo sono perché sono seri sono veri ho messo qui una delle tante citazioni insomma che tematizzano questo discorso ci sono anche una serie di racconti scritti tra i anni 40 e 50 che tematizzano il gioco in varie forme qui li ho semplicemente elencati non entro nel merito Passatempi Chi si contenta un bastimento carico di granchi voglia di mare un bel gioco dura poco la signora Paulati in varie forme il gioco ritorna nei nostri antenati il gioco assume già funzioni più complesse cioè diventa uno strumento come sarà sempre di più per tracciare un ordine per dare una forma leggibile all'esistenza pensiamo ovviamente al barone rampante dove il gioco ad arrampicarsi sugli alberi diventa lo strumento concreto per la ribellione di Cosimo e anche la forma d'azione con cui esplora il suo nuovo mondo e con cui poi fortifica e rende irrevocabile la sua scelta oppure nel cavaliere inesistente appena analizzato pensiamo agli esercizi di esattezza di Agilulfo contare oggetti ordinarli in forme geometriche risolvere problemi di aritmetica che gli permettono di non dissolversi sul fan del giorno il gioco torna anche in vari racconti delle Cosmicomiche qui vado appunto molto rapidamente sul fan del giorno i fratelli iniziano a giocare e fanno nascere le cose dal nulla giochi senza fine i personaggi giocano a biglie con gli atomi anche un segno nello spazio tutto sommato può essere visto come una sfida a distanza un gioco antagonistico in questo caso tra il protagonista e il suo rivale e in un certo senso anche i racconti finali insomma di Ticom Zero quelli logico deduttivi hanno qualcosa a che fare con appunto l'esperienza ludica paradossi spazio-temporale calcoli e appunto giochi potenziali infine nelle opere successive c'è un'integrazione più complessa tra il piano tematico e quello strutturale penso ovviamente ai tarocchi nel castello in una forma un po' più analogica ma gli scacchi di Kublai Khan nelle città invisibili e poi altra cosa ancora tutta la pantomima di giochi di ruolo di travestimenti di continue simulazioni di identità che troviamo nel viaggiatore sia nella cornice che nei dieci incipiti incastonati non faccio e non voglio non vorrei nemmeno fare un censimento completo qui rimando insomma ho messo un po' di ho fatto un po' il secchione quindi insomma ho messo un po' di spunti bibliografici che trattano in forma più o meno estesa questi temi e lo fanno poi da prospettive anche molto diverse comunque sono tutti interventi in una cronologia anche abbastanza ampia che insistono su queste tematiche sottolineo un punto a questa altezza cioè che a questo livello dove il gioco è un elemento tematico come la pistola di PIN o un pretesto per la costruzione narrativa come sono i tarocchi il gioco diventa lo anticipavo già un po' prima ma diventa uno strumento per prendere le misure prendere le distanze naturalmente ma prendere le misure soprattutto rispetto al mondo cioè per riportare la tragica sproporzione la dismisura della vita e della storia appunto a delle misure gestibili è un modo di accesso al reale lo ha definito così Maria Corti in questo vecchio saggio sul castello cioè un modello concettuale ma anche pratico operativo per trovare un rapporto con la realtà senza esserne schiacciati allora fin qui mi sono mosso in modo abbastanza empirico credo però che questa notevole pregnanza tematica del gioco ci possa incoraggiare a riflettere in un modo un pochino più organico sulla sua portata teorica cioè sul ruolo che può avere nel sistema intellettuale nell'idea di letteratura di Calvino se facciamo un passo avanti e quindi verso un livello di analisi un pochino più profondo rispetto alla campionatura tematica possiamo trovare una serie di risonanze piuttosto significative nel lavoro di chi ha studiato il gioco in termini sistematici qui ci sarebbe una bibliografia gigantesca che tra l'altro attraversa molti campi disciplinari dalla storia alla sociologia all'antropologia e alla pedagogia mi limito a due super classici due testi inaggirabili in questo campo Heisinger Homo Ludens e Kaiwa i giochi degli uomini autori che naturalmente Calvino conosceva anche se a mia conoscenza non li cita in rapporto a queste ricerche specifiche comunque diciamo che nonostante una serie di differenze nelle loro riflessioni Kaiwa poi naturalmente riprende Heisinger ma mettono in luce una serie di tratti distintivi del gioco che qui ho rapidamente nucleato ho messo appunto a supporto qualche citazione che adesso non leggo naturalmente per ragioni di tempo da entrambi primo punto il gioco è un'attività libera il gioco comandato non ha senso è un'attività incerta nel senso che i suoi esiti non sono predeterminati e non possono essere possono essere appunto imprevisti il gioco questo è fondamentale ovviamente ed è assolutamente intuitivo il gioco è un'attività separata dalla vita normale sta in un ambito in cui non valgono le leggi comuni non ha conseguenze per la vita reale ed è anche un'attività disimpegnata e improduttiva cioè non produce alcunché dice Kai-wa per esempio non produce né beni né opere attività separata dalla vita è anche circoscritta inclusa in una cornice circoscritta nello spazio nel tempo in una cornice che ha qualcosa di rituale naturalmente Heisinger soprattutto ha studiato tutto il ruolo del gioco nel percorso e nello sviluppo della civiltà e anche nel suo rapporto con la religione con il rito fondamentale il gioco è un'attività governata da regole senza regole non c'è gioco sono regole arbitrarie ma vincolanti e appunto inconfutabili altro punto quinto punto il gioco crea ordine e organizzazione nello spazio delimitato si creano oasi aree di perfezione temporanea appunto un'isola di chiarezza e perfezione infinitesimale e precaria e infine questo è un punto più specifico di Kaiwa il gioco è un'attività fittizia qui il legame con l'estetica ovviamente soprattutto con l'esperienza di lettura sono abbastanza facili da tracciare il gioco presuppone appunto l'accettazione di una realtà illusoria di un mondo fittizio le regole permettono di creare delle forme di simulazione in qualche modo a questo aggiungo esulando appunto dai due classici un ulteriore tratto che su cui insiste molto questo studioso un altro teorico del gioco Jacques in Rio in questo denso libro intitolato su couleur de jouet la metafora ludique che è la distanza tutti i punti precedenti chi ha anche vaga conoscenza di Calvino forse ha riconosciuto tante cose che gli sono congeniali e sicuramente anche questo sappiamo quanto la distanza sia una categoria centrale per lui nel senso che per giocare spiega ampiamente in Rio come anche per leggere aggiungo io bisogna mantenere una giusta distanza tra coinvolgimento e distacco in uno stato lui dice di seconda coscienza o di doppia coscienza essere consapevoli di essere ancora noi stessi ma anche essere consapevoli di avere una specie di io finzionale che si muove che agisce nello spazio del gioco giocare significa entrare nel gioco ma si tratta più che altro di stare dentro e fuori allo stesso tempo è una formula direi molto calviniana se rimaniamo fuori non stiamo giocando se ci spingiamo troppo dentro corriamo il rischio di lasciarci trasportare a tal punto da perdere vista il fatto che si tratta solo di un gioco e allora non stiamo più giocando ribadisce Caroline Lebreck questo è un libro che poi deve molto a Henriot è il soggetto che gioca e che attraverso il gioco stabilisce una distanza con il proprio io ecco tutto questo credo spiega perché Calvino in varie occasioni abbia suggerito abbia presupposto una sostanziale equivalenza tra letteratura e gioco pensando sia al polo creativo dell'autore sia al polo ricettivo del lettore visti un po' come due giocatori che si siedono allo stesso tavolo in tempi diversi per esempio in questa intervista del 1979 dice a Chiare Lettere che nella letteratura c'è sempre un aspetto di gioco perché scrivere è una scommessa un atto che deve ubbidire a certe regole oppure violarle consapevolmente in letteratura l'aspetto ludico è metodologicamente necessario o ancora nella macchina spasmodica appunto insiste sull'aspetto ludico che incrina e dissolve la gravità sempre ideologica che tende a cristallizzarsi intorno ai discorsi letterari quindi il gioco al servizio della leggerezza come in altri casi significativo quello che dice nel lungo importante saggio su Raymond Quenot scrittore sempre sospeso tra razionalità e paradosso tra esperimento e gioco dove poi ribadisce Calvino il piacere del gioco è l'insostituibile contrassegno dell'umano ma forse da qui poi viene anche il titolo tra l'altro della mia citazione della mia relazione messo tra virgolette forse il più grande apologeta della letteratura come gioco è diciamo l'illuminato censore del di Siamo una notte in viaggiatore cioè Arkadian Porfiric nel momento in cui incontra il lettore come ricorderete tutti e gli parla di Marana e di Ludmilla e a un certo punto dice forse in momenti più alti più impegnati in qualche modo del suo discorso finché so che al mondo c'è qualcuno che fa dei giochi di prestigio solo per amore del gioco finché so che c'è una donna che ama la lettura per la lettura posso convincermi che il mondo continua e ogni sera anch'io mi abbandono alla lettura come quella lontana lettrice sconosciuta solo per amore del gioco ovviamente il momento culminante di tutto questo è la cosiddetta fase combinatoria quando Calvino gioca con le sue macchine testuali sempre più complesse e anche con le teorie letterarie lo sottolineava tempo fa Cesare Segre sempre a proposito del viaggiatore diceva che Calvino gioca gioca con le teorie come se fosse una scatola natalizia di giocattoli e ha preso gusto insomma in questa cosa in questo caso ovviamente il gioco si trasferisce dal piano tematico dove in realtà continua anche a essere presente ad agire al piano strutturale cioè diventa un modello operativo di composizione del testo che poi interviene anche sul versante della ricezione coinvolgendo il lettore in un rapporto attivo e sempre sempre più attivo quasi in alcuni casi di manipolazione testuale l'emblema è ovviamente sono cose molto ovvie quindi insomma vado molto note vado rapidamente l'emblema è direi il bagatto nel penultimo capitolo della taverna dei destini incrociati in cui si autoritrae Calvino giocoliero illusionista che dispone sul suo banco da fiera un certo numero di figure spostandole connettendole e scambiandole ottiene un certo numero di effetti dove è un brano dove secondo me il tipico understatement di Calvino può essere utilmente integrato con una battuta di questa intervista con Daniele del Giudice del 1978 in cui in realtà rivendica la paradossale e controintuitiva serietà e onestà del bagatto giocoliero illusionista con un imbroglione un ciarlatano ma lui in realtà dice beh questo prestigiatore o ciarlatano che si presenta apertamente come uno che fa giochi di destrezza è in fondo quello che mistifica di meno allora in questa fase dicevo prima insomma che appunto una delle qualità del gioco è di essere un'attività governata da regoli in questa fase la questa qualità acquista anche un senso più tecnico e più preciso che è quello della contraint teorizzata e sperimentata con gli amici dell'Ulipo anche qui non entro nel merito insomma sono cose molto studiate sottolineo solo che la nozione di regola contraint è attraversata da una serie di antinomie nell'uso delle regole del gioco che Calvino fa si crea una tipica tensione tra costrizione e libertà tra ordine e caos e anche tra ragione e follia nel senso che il gioco è libero dicevamo prima le regole sono arbitrarie liberamente scelte ma sono anche rigorose e vincolanti eppure questo lo dice ampiamente in quel saggio fondamentale su che no proprio questa costrizione autoimposta è quella che permette e sprigiona la vera libertà dello scrittore altre antinomie le regole ubbidiscono un programma spesso ubbidiscono una progettazione o sono parte diciamo di una progettazione sistematica e matematica talvolta ma poi lasciano spazio all'imprevisto all'errore anche attraverso quello che gli ulipiani come saprete chiamavano il clinamen riprendendolo dalla fisica epicurea cioè la la deviazione imprevista che interrompe la cascata uniforme degli atomi tutto questo si vede anche qui vado rapidamente nella in un punto fondamentale nella torsione dialettica di quel di quello che ancora oggi secondo me è un saggio straordinario cioè cibernetiche fantasmi dove Calvino dice a un certo punto lo ricorderete la letteratura sia per mutazione di un numero finito di elementi ma è anche tensione a uscire da questo numero finito è gioco combinatorio che segue le possibilità implicite nel proprio materiale ma è gioco che a un certo punto si trova investito di un significato inatteso la macchina letteraria può effettuare tutte le permutazioni possibili in un dato materiale ma il risultato poetico sarà l'effetto particolare di una di queste permutazioni sull'uomo dotato di una coscienza e di un inconscio cioè sull'uomo empirico e storico sarà lo shock che si verifica solo in quanto attorno alla macchina scrivente esistono i fantasmi nascosti dell'individuo e della società che è più o meno la stessa tesi anche se i termini sono diversi che troviamo in un saggio molto intelligente secondo me del settanta che è il romanzo come spettacolo cito ancora rapidamente se riconosciamo le regole del gioco romanzesco potremo costruire romanzi artificiali nati in laboratorio potremo giocare al romanzo come si gioca a scacchi ma siccome gli schemi del romanzo sono quelli di un rito di iniziazione di un addestramento delle nostre emozioni e paure dei nostri processi conoscitivi si trovano forse tangenze con quanto abbiamo ascoltato prima finirà per rimettere in gioco tutto quello che abbiamo dentro e tutto quello che abbiamo fuori e per fuori intendo naturalmente il contesto storico sociale e tutto l'impuro che ha nutrito il romanzo nelle sue epoche d'oro da questo punto di vista il gioco che pure si svolge in una sfera separata in una cornice ritualizzata non è serio è frivolo eccetera può avere anche un valore sovversivo un valore destabilizzante rispetto alle leggi del mondo reale ed è per questo che Calvino insiste sul carattere serio del gioco e quindi mette in discussione una delle classiche antitesi che tanti teorici hanno sottolineato che contrappongono la frivolezza la libertà anche l'inutilità del gioco rispetto alla serietà della vita normale nell'intervista che già citavo prima continua subito dopo dicendo vedete ciò non significa che la letteratura non sia una cosa seria anche il gioco è qualcosa di molto serio e in questo Calvino si riallaccia implicitamente a tutta una corrente di pensiero che ha valorizzato la funzione cognitiva del gioco anche in relazione alla sfera estetica qui cito solo uno di studiose più significativi che hanno dedicato molte riflessioni a questo Lothman che sottolinea la contrapposizione gioco e conoscenza è priva di fondamento il gioco occupa un posto grandissimo nella vita non solo dell'uomo ma anche degli animali è una delle più serie e organiche esigenze della psiche umane è il motivo appunto il gioco serio il motivo per cui mi sembrano del tutto suocate un po' fuori centro le accuse di chi ha descritto Calvino come un giocoliere così un po' disimpegnato irresponsabile che si mette a distanza di sicurezza dalla vita con i suoi giochetti fino a se stessi domatori di cavallucci ad ondolo concettuali moresco oppure in modo più articolato più sofisticato in Carla Benedetti gli giochi di specchi e specchietti che non rimandano a nulla è il problema annoso del Calvino più o meno postmoderno il rapporto con la realtà che rimane o non rimane a me sembra molto indicativo invece quello che Calvino dice degli amici dell'Ulipo in questa intervista del 73 con Camon è un brano che trovo bellissimo da tanti punti di vista quello che mi rende vicini è il loro rifiuto della gravità questa gravità che la cultura letteraria francese impone dappertutto anche dove sarebbe necessaria un po' di autoironia questi qui no considerano la scienza non in modo grave ma come gioco secondo quello che è sempre stato lo spirito degli scienziati veri del resto certo anche in loro in questo scherzare per partito preso c'è una dimensione eroica un nichilismo disperato qui è evidente credo che Calvino sta parlando anche di se stesso anche se forse qui a nichilismo andrebbe sostituito pochismo come diceva ieri giustamente Telmo Pievani su questo rimando a uno smagliante saggio di Mario Lavaggetto che è Little is left to tell siamo appunto fine anni 60 inizio anni 70 qui è una fase particolarmente critica per esempio tra i tanti insomma Zublena questo saggio del 98 ha sottolineato che dall'inizio degli anni 70 la fiducia di Calvino nella capacità la razionalizzatrice della conoscenza sembra venire progressivamente meno senza spegnersi del tutto c'è un nucleo scuro di invisibile indicibile che non è riducibile alle categorie di lettura del logos può sembrare paradossale ma in realtà è assolutamente sintomatico quanto meno che proprio in questa fase Calvino tenda a rafforzare le sue strutture testuali ad architettare giochi combinatori sempre più complessi lo vediamo appunto dal castello nel castello 67 insomma in poi intesi appunto giochi combinatori intesi come difese come camere di compensazione rispetto al caos e alla violenza del mondo reale e a fiore qui quello che a fiore più nettamente quello che vorrei chiamare in conclusione una dialettica del razionalismo come abbiamo scritto nel sottotitolo in modo forse un po' pomposo in questo saggio del 75 che è credo il primo insomma uno dei primi dedicati a queste tematiche John Gattratter concludeva dicendo dopo una panoramica molto densa che Calvino non è mai stato davvero consapevole del potere del gioco nel senso dice lui che non ne ha colto non ne ha saputo cogliere e mettere a frutto le potenzialità politiche io penso che non sia vero quantomeno Calvino ha usato il gioco secondo me con una funzione critica rispetto all'esistente cioè non chiudendosi nella cittadella non limitandosi a divertirsi e basta sicuramente si divertiva anche ma non era solo quello lo ha fatto chiaramente si è messo in una forma critica rispetto all'esistente nelle forme oblique nelle forme indirette che gli sono congeniali e che tutti conosciamo di per sé il gioco produce ordine ubbidisce alle regole sembra una funzione diretta della razionalità ma al tempo stesso come insomma parte rapidamente abbiamo visto il gioco mostra anche un lato oscuro e lascia emergere qualcosa di irrazionale intanto le regole lo dice Calvino qua e là possono essere violate oppure possono generare altre regole che non conosciamo e fanno apparire qualcosa di imprevisto e quindi all'improvviso diciamo dietro la perfezione della macchina dietro la perfezione del congegno cibernetico appare qualcosa che la ragione illuminista nella sua autonarrazione ha cancellato o ha diciamo si è illusa di aver cancellato sono quelle cose che Calvino chiama di volta in volta il mito il tabù l'inconscio il fantasma il non detto e il non decibile che lui cerca strenuamente di annettere al decibile alla sfera della ragione ma con tutte le difficoltà del caso qui diventa molto pertinente credo anche rispetto al rapporto con il razionalismo e con la razionalità illuminista anche il carattere gratuito e non utilitario del gioco un lavoro da cui ogni fatica è evaporata come scriveva Barth o ancora come sottolinea Caillois il gioco si scontrapone al lavoro come il tempo perso al tempo ben impiegato questa fondamentale gratuità del gioco è appunto l'aspetto che maggiormente lo discredita il gioco è occasione di puro dispendio di tempo di energia di intelligenza di abilità e a volte di denaro nel gioco come nella letteratura aggiungo io c'è un elemento di spreco c'è qualcosa di disfunzionale di profondamente disfunzionale che implicitamente indirettamente obliquamente tutti gli avverbi che volete mette in discussione il funzionamento e anche il potere della ragione strumentale per come si è sviluppata nel corso della modernità borghese pochi minuti e chiudo credo che la manifestazione più tangibile di questa dialettica sia una figura e soprattutto in questa fase insomma che illustravo adesso sia una figura ricorrente nell'opera di Calvino di cui io trovo insomma una suggestione ma insomma negli anni ho trovato un emblema nel mirab la nicchia che nelle moschee indica la direzione della mecca al quale appunto Calvino dedica questa prosa di collezione di sabbia quello che mi attira è l'idea di una porta che fa di tutto per mettere in vista la sua funzione di porta ma che non si apre su nulla l'idea di una cornice lussuosa come per racchiudere qualcosa di estremamente prezioso ma dentro la quale non c'è niente quindi una struttura o una cornice minuziosamente lavorata molto sofisticata ma al cui centro c'è un vuoto c'è un punto di fuga c'è qualcosa che fa implodere il sistema e che lo attrae verso il nulla in qualche modo questa è una suggestione figurativa io ne trovo un po' una ricaduta in qualche modo appunto anche nei giochi combinatori di Calvino che sono appunto un prodigio di ingegno di progettazione di controllo razionale del caos ma nei quali si annida sempre qualcosa che non funziona c'è un elemento di spreco di dissipazione un errore più o meno intenzionale che spesso allude a un senso di distruzione apocalittica appunto di attrazione e di nulla in un libro classico Milanini parlava di scompaginamenti di un Calvino che appunto cura i suoi congegni narrativi poi fa qualcosa mette attrito li fa li scompagina dall'interno infrange con contromosso e sognone le regole che si è dato pensiamo alla matrice matematica della città invisibile al centro della quale c'è la casella semivuota sempre parole di Milanini dell'unica città letteralmente invisibile che è Bauci o ancora di più in modo più evidente nel castello insomma nelle due versioni nel castello che funziona meglio come macchina c'è però al centro del quadrato magico lo sappiamo la folia di Orlando e Calvino tematizza questo punto di fuga questo momento di implosione Orlando che discende nel cuore caotico delle cose al centro del quadrato del mondo e poi nella taverna lì è proprio il sistema che salta per aria le carte vengono scompaginate non a caso tutto si chiude con la parola disastro ma anche nel viaggiatore qui c'è una variazione della figura che non è più concentrica ma è un po' a spirale è una specie di vite senza fine se vogliamo nel diagramma cancellazioni successive che procede da un romanzo all'altro fino a quello apocalittico che racconta la cancellazione del mondo anche se poi in extremis appunto il pochista non il nichilista ma il pochista Calvino salva qualcosa quando i due protagonisti si incontrano e rifanno in qualche modo risorge una piccola zona di ordine nell'annullamento generale chiudo veramente 30 secondi perché mi piace chiudere con un autore che adoro mi sono emozionato vedendo nella mostra la copia della vita della Bimod d'Emploi dedicata a Calvino credo che un emblema di tutto questo insomma una figura tangibile di tutto questo Calvino potesse riconoscerla e l'avesse riconosciuta in una figura esemplare che è appunto rispetto a questa ambivalenza del gioco e a questo suo rapporto dialettico con la ragione e la razionalità cioè non è il protagonista ma è il personaggio principale forse della Bimod d'Emploi che è Bartlebut che intraprende questa sua assurda impresa con i puzzle al quale dedica tutta la sua vita fondamentalmente per controllare una minima porzione del reale cioè per sottrarre una piccolissima zona all'incoerenza alla follia della vita impresa inutile impresa assolutamente gratuita destinata fin dal progetto ad autodistruggersi a svanire nel nulla un progetto unico la cui necessità arbitraria non avrebbe avuto uno scopo diverso da sé inutile essendo proprio la gratuità l'unica garanzia del rigore il progetto si sarebbe distrutto da solo nel corso stesso del suo divenire la sua perfezione sarebbe stata circolare una successione di avvenimenti che concatenandosi si sarebbe annullata partito da zero Bartlebut allo zero sarebbe tornato attraverso trasformazioni precise di oggetti finiti e qui cogliamo credo alla perfezione il senso di quel commento quando Calvino diceva una dimensione eroica un echilismo disperato che è incarnato sicuramente da questo personaggio ecco questo è qualcosa che il buon borghese razionalista che ha conquistato il dominio del mondo e che ha fatto del gioco un appendice parassitare della vita seria non potrebbe mai capire e concludo io tanto peggio per lui grazie grazie mille professor Bertoni per questa relazione veramente articolata e pienamente secondo me persuasiva passo la parola a Robert Gordon che ho già presentato prima grazie non rifacciamo grazie allora speriamo bene questa volta devo parlare io sì eccoci qua meno male grazie grazie Lucia grazie a Mario Barenghi Martin McLaughlin che mi hanno invitato al convegno grazie a tutti voi per la pazienza è una lunga giornata siamo quasi alla fine allora il mio è un piccolo contributo modesto in realtà è una lettura di un racconto fondamentalmente ma prima vorrei partire un po' da lontano cioè dal famigerato amico nemico di Calvino cioè Pasolini ecco mi sono caduti per caso gli occhi sulla parola petrolio in un articoletto credo dell'unità e solo per aver pensato la parola petrolio come il titolo di un libro mi ha spinto poi a pensare alla trama di tale libro in nemmeno un'ora questa traccia era pensata e scritta siamo nell'estate del 72 più di un anno prima dell'esplosione della crisi petrolifera dell'ottobre del 73 esattamente 50 anni fa come sappiamo bene dalle notizie tragiche dal Medio Oriente di questi giorni in seguito alla guerra dello Yom Kippur ma Pasolini ha già intuito qualcosa qualcosa di nuovo che si stava muovendo negli strati profondi dell'ideologia contemporanea qualcosa che legava politica economia modernità e energia attraverso la materia grezza o raffinata del petrolio tra le righe dei suoi lamenti per il collasso della storia delle sue visioni apocalittiche del genocidio socio-antropologico degli italiani di questi stessi anni forse alla origine profonda della crisi ecologica che evocherà nel 75 con l'immagine metafora della scomparsa delle lucciole l'articolo del febbraio del 75 il vuoto di potere si intravede un'altra apocalisse l'intuizione dell'arrivo di quello che ora chiamiamo l'antropocene attraverso il lungo arco che va dall'apoteosi all'inevitabile scomparsa del petrolio Pasolini passerà buona parte dei mesi rimasti dopo l'estate del 72 lavorando alla stesura del suo romanzo epico-satirico dal titolo appunto titolo probabile petrolio in cui un elemento importante sarà occupata dai misteri dell'eni di Eugenio Cefis del viaggio mistico commerciale in Medio Oriente del suo protagonista scisso in due Carlo nuovo argonauta seguendo il novello bello d'oro del petrolio in uno dei momenti culmine della visione di Pasolini in petrolio dice una nota che esploderà alla fine del romanzo si trova una pagina di frammenti e appunti schiettamente post-apocalittici con la descrizione di una cosiddetta crisi cosmica che Pasolini crisi cosmica fine petrolio acqua aria la scena della fine del petrolio è immaginata da Pasolini attraverso gli occhi di alcuni misteriosi dei non dei dei del riso corrosivo che troviamo altrove nel testo come una catena di degrado ecologico si vede qui in basso sopraggiugendo i dei vedono il nuovo aspetto della terra degradata inquinata acqua animali erbe cimiteri di residui plutoni monumenti funebri termonucleari oltre che rovine contorte di tutto ciò che riguarda il petrolio dalle raffinerie ai benzinai le raffinerie e cioè l'industria globalizzata della produzione petrolifera fino ai benzinai luoghi di banali paesaggi urbani e per i urbani dell'Italia del secondo novecento luoghi di aggregazione per le macchine inclusa forse la mitica alfa di Pasolini e quindi luoghi della modernità automobilizzata come per esempio in questo famosissimo quadro di Hopper e del benessere del dopo boom automobili e come vedremo anche perfino i benzinai come luoghi ambivalenti del moderno si trovano spesso anche nell'opera di Calvino lo nota lui stesso in un breve commento del 74 contrastando i suoi racconti i primi racconti se in molti dei miei ultimi racconti i personaggi vanno sempre in macchina nei miei primi racconti andavano sempre a piedi vabbè una differenza ma come in Pasolini ma forse a sorpresa oltre alla loro banale contemporaneità queste macchine questi benzinai in Calvino possono anche essere spie di una crisi incombente di una temporalità e di una materialità altra attraverso cui si intravede una probabile apocalisse abbiamo sentito anche ieri da Carlo Ginzburg che c'è questo lato apocalittico in Calvino per la presenza della macchina in Calvino come funzione meccanica e geometrica della modernità possiamo pensare a un racconto come Il guidatore notturno pubblicato accanto all'inseguimento un altro racconto di macchine in T con Zero nel 67 e poi di nuovo nel 70 col titolo L'avventura di un automobilista nel volume Le amori difficili un racconto quasi astratto di linee luci e colori di macchine e di autostrade che si traducono in angosce e incertezze per il protagonista oppure al suo commento in qualche modo umoristico sulla poesia di Montale forse un mattino andando del 76 dove parla della nuova categoria antropologica dell'uomo automobilista riplasmato dal miracolo della retrovisione cioè da una nuova bifocalità soggettivo spaziale lo sguardo simultaneamente prospettivo e retrospettivo accompagnato dalla paradossale scomparsa dell'io tanto voluta da Calvino resa possibile nella nostra tarda modernità dallo specchietto nelle automobili di specchietti della Benedetti forse ci siamo in entrambi questi casi però abbiamo a che fare per lo più con un raccontare immateriale semiotico geometrico del labirinto moderno e dell'esperienza della modernità da parte del soggetto pensante ma Calvino è anche si sa un grande osservatore delle materie e dei fenomeni delle sostanze organiche e inorganiche del mondo e della loro funzione antropologica e non è soltanto cioè l'occhio astratto e forse soprattutto in questa fase sperimentale e formalista della sua carriera come altri hanno detto già oggi e ieri come si vede per esempio dalla fenomenologia di Palomar o dal racconto autobiografico materiale che è la più belle agree del 77 troviamo un locus di quest'altro cavino già nel guidatore notturno cioè nel momento di svolta del racconto letteralmente e narrativamente cioè il momento in cui il protagonista si ferma in autostrada e decide di invertire la marcia a metà dell'autostrada c'è una stazione di servizio il locus mi fermo corro al bar compro una manciata di gettoni formo il prefisso di B e il numero di Y nessuno risponde faccio cadere la pioggia di gettoni con gioia è chiaro che Y non ha retto l'impazienza è salita in macchina e corso verso A ora sono tornato sull'autostrada dall'altro lato quindi il luogo della stazione di servizio i gettoni la materialità dell'esperienza della chiamata e l'inversione di marcia forse racconta alla fine non smetterà mai di correre avanti indietro in autostrada invisibile e immateriale come l'io nello specchietto e continua cioè senza forse continua così senza luoghi di partenza o di arrivo che incombano gremiti di sensazione e significati sull'univocità della nostra corsa liberati finalmente dello spessore ingombrante delle nostre persone e voci e stati d'animo ridotti a segnali luminosi solo modo di essere appropriato a chi vuole identificarsi a ciò che dice senza il ronzio deformante che la presenza nostra o altrui trasmette a ciò che diciamo c'è sempre la stessa visione di Calvino di sparire il luogo concreto di svolta o meglio il non luogo di questa esistenza sospesa ed astrata è il gas station di Hopper la stazione di servizio e la scena che fa e la scena fa venire in mente un altro racconto di Calvino forse meno noto ma scritto nello stesso arco di anni intorno alla stessa epoca della fine del boom e dell'arrivo della crisi e la stessa epoca dell'ossessione di Pasolini per petrolio un racconto che combina lo studio psicopenomenologico dell'uomo automobilista con una scala macrocosmico universale simile alle cosmicomiche che combina anche la cruda materialità meccanica del motore a combustione e la produzione chimico-geologica del petrolio una prospettiva che si rivela sempre con la solita leggera ironia calviniana anche in qualche modo apocalittica e dunque possiamo dire proto-antropogenica se si può dire il racconto è questo si intitola la forza delle cose ho scritto male lì quando appare per la prima volta sul Corriere della Sera il 21 dicembre del 74 e siamo a un mese dall'articolo di Pasolini che cos'è questo golpe che è del 14 novembre e che poi diventa il romanzo delle stragi e così via poi questo racconto ripubblicato nel volume postumo prima che tu dica pronto col titolo La pompa di benzina Allora La pompa di benzina è un racconto a doppio strato che poi diventano strati multipli sovrapponendo tempi epoche dimensioni naturali e poi anche registri narrativi diversi dal comico banale al saggistico al visionario apocalittico parte appunto proprio da quel luogo banale della stazione di servizio o nella fattispecie uno più pompe di benzina cittadine in un caldo mezzogiorno d'estate per cui i benzinai sono tutti chiusi per pranzo il luogo non luogo è quindi una specie di contrapunto dell'autostrada di notte qui siamo di giorno in città il luogo equivalente dell'avventura di un automobilista il protagonista si rende conto che è a secco di benzina è qua o quasi e cerca disperatamente un distributore aperto infine troverà uno automatico e lì incontrerà in un breve momento di gioco anche erotico la cosiddetta guidatrice un'eco diretta credo del guidatore notturno segno di un altro amore difficile l'incontro però finisce come finisce il racconto nel nulla in una scena quasi fantascientifica con un silenzio incombente sopra la città che lascia il protagonista immaginare tra l'assurdo e il post apocalittico lui e la guidatrice che sopravvivono in qualche modo insieme nel dopo di una catastrofe c'è un topo sclassico della fantascienza apocalittica se questo silenzio continua la prenderò per mano e ci metteremo a correre nell'ultima frase del racconto perché post apocalittico perché il racconto della ricerca di benzina in città si accompagna fin dall'inizio del testo dal racconto parallelo della storia geologica della creazione lenta e materiale della sedimentazione lungo milioni di anni del petrolio che poi si trasforma in benzina e come la benzina sta finendo in città a mezzogiorno per il protagonista così il petrolio si sta avviando all'esaurimento a livello planetario il parallelismo è messo in evidenza e ripetuto e volutamente pesante credo da parte di Calvino è già da un pezzo che l'indicatore di livello mi avverte che il serbatoio è in riserva è già da un pezzo che ci hanno avvertito che le riserve mondiali del sottosuolo potranno durare presso a poco vent'anni in un gioco abile di scala e di temporalità contrastanti Calvino o il protagonista narratore evoca un mondo che è già avviato verso la catastrofe un mondo che è già in qualche modo proiettato nel dopo non a caso il racconto inizia con la frase lapidaria così avrei dovuto pensarci prima ora e tardi ma lo incarna questo mondo in una situazione abbastanza ridicola col bathos dell'uomo medio dell'uomo automobilista praticamente e eroticamente incapace e frustrato la visione che ne esce dell'io e della specie umana sospesi in transizione passando da un'esistenza di possibilità e di benessere quando ancora la benzina sembrava un bene illimitato come l'aria alla scarsezza sia a livello storico cioè la crisi degli anni 70 che a livello sociologico la fine del boom e Pasolini aggiungerebbe l'omologazione del neocapitalismo che a livello appunto geologico siamo entrando in una nuova epoca insiste ripetutamente anche qui con anafora marcata ma no è già lì l'epoca in cui tutto sembrava facile e finita l'epoca in cui potevi credere che le energie umane fossero illimitatamente al tuo servizio come le energie naturali e l'epoca l'epoca è nuova e forse anche terminale la visione è escatologica come se proprio a quest'ora dal convergere di lenti cataclismi si fosse prodotto all'improvviso cataclisma finale poi l'ultima vampata che ancora il genere umano può fare propria e poi questa spinta potrebbe essere l'ultima e i segnali come la lumicina rossa che si accende nel cruscotto della macchina per indicare che la benzina è finita sono chiari sono lampanti sono angoscianti l'accendersi della spia luminosa mi comunica un senso d'alarme di minaccia indefinito incombente ora il concetto dell'antropocene è stato stabilito almeno nel suo significato attuale nel 2000 dal meteorologo olandese che vedete a sinistra Paul Crudson Calvino già nella pompa di benzina con la sua indagine sulle scale temporali del petrolio nel presente e nella preistoria e ricordo che anche Pasolini dagli anni 60 e poi insiste ossessivamente sul passaggio dalla storia ad una nuova preistoria cioè Calvino già trae ispirazione dalla divisione della storia terrestre in periodi geologici e la sua nuova epoca la fine dell'età del benessere in senso socio-economico qui ho messo il saggio famoso di Galbraith sulla società del benessere del benessere segnata appunto dalla crisi petrolifera è anche la spia di un'altra fine metaforica ma non soltanto e di una nuova area geologica sempre dal racconto sto vivendo in questo stesso momento simultaneamente la ascesa il cumine il declino delle società dette opulente così Galbraith così come una sonda di rotazione passa da un istante all'altro attraverso i millenni perforando le rocce sedimentarie del Prio Cene del Cretaceo del Triassico fin qui forse il protagonista della pompa di benzina e le sue ruminazioni potrebbero forse ricordare un Marcovaldo in città o un signor Palomar riflessivo e ansioso se non fosse per un altro elemento per una particolare attenzione stilistica del racconto alla materialità del petrolio quasi che Calvino fosse alla ricerca di un nuovo linguaggio o di una nuova poetica geologica geologico cosmo cosmo geologico si potrebbe dire per captare questa nuova epoca a venire il racconto infatti offre una serie di momenti in cui l'immaginazione e l'espressione del narratore si perdono in un accumulo di scorci e di frammenti delle epoche che lo hanno precedute di altre temporalità di interpenetrazioni e di simultaneità che ci portano dalle epoche della preistoria geologica all'oro nero del greggio raffinato al liquido giallo della pompa di benzina in città cito alcuni esempi velocemente ma non tutti allora sì ogni anno due milioni di tonnellate di greggio sono estratti dalla crosta terrestre che le conservava da milioni di secoli nelle pieghe delle rocce sepolte tra strati di sabbia e d'argilla cioè muove attraverso strati diversi attraverso la ripetizione di parole anche semplici milioni di tonnellate milioni di secoli come so che il mio serbatoio sta per restare in secco così sento assottiliarsi le scorte delle raffinerie il flusso degli oleodotti il carico delle petroliere che solcano i mari le sonde frugano le profondità della terra e tirano su solo acqua sporca il mio piede sull'acceleratore diventa cosciente che alla sua più leve pressione gli ultimi sprazzi dell'energia accumulata dal nostro pianeta si vanno bruciando la mia attenzione si concentra nel centelinare i supertiti fiotti di carburante nella macchina ma anche nel mondo quindi il parallelismo e l'accumulo di elementi di frammenti rende l'effetto di questa molteplicità di scale e distrati di nuovo nelle ore meridiane la mia vettura cerca in vano di che abbeverarsi c'è un paragrafo concentrato su questa scena e poi riprende di nuovo col salto nelle ore meridiane del cretaceo gli esseri viventi fluttuavano alla superficie del mare sciami dalghe minutissime e sottili gusci di plankton morbide spugne e taglienti coralli crogiolandosi al calore solare che continuerà a digire attraverso di loro nel lungo periplo che la vita affronta oltre a morte quando ridotta una pioggia leggera di detriti vegetali e animali si depositano sui bassi fondali e si impastano nel fango e così via e l'accumularsi di elementi che Calvino adopera per rendere questo processo a strati diversi e l'ultimo l'ultima citazione che ha anche l'elemento della contemporaneità industriale quindi è importante che non è soltanto il cretaccio e la pompa di benzina cioè Calvino sta stratificando a più riprese mentre sto facendo rifornimento a self service una bolla di gas si gompia in un nero lago sepolto sotto il fondo del golfo persico in silenzio un emiro si porta al petto le mani nascoste nelle larghe maniche bianche in un grattacielo un computer della Exxon macina numeri in alto mare una flotta di cargo riceve l'ordine di cambiare di rotta io mi frugo nelle tasche il filiforme potere della carta moneta svanisce i strati del tempo e dello spazio si interseccano per usare un verbo calviniano l'estensione e la simetria della frase coglie una simultaneità delle scale dei tempi e degli spazi industriali geologici geopolitici economici e poi anche esistenziali in una commissione di scale che caratterizza anche una parte significativa della letteratura e del pensiero contemporanei dell'antropocene per cui possiamo dire che anche qui Calvino sta in qualche modo anticipando un pensiero del contemporaneo ho messo questo per la frase del sottotitolo di questa collezione di saggi per la frase la scala complexity la complessità scalare come vado il tempo va bene ancora 5 minuti va bene sia Pasolini che Calvino dunque a metà degli anni 70 immaginano ognuno con gli strumenti propri una crisi cosmica le scatologie della fine del petrolio della benzina l'ascesi e il declino dell'età dell'uomo economicus in qualche modo o dell'uomo tucur per Calvino come per una parte rilevante della letteratura dell'antropocene del nostro ventunesimo secolo la prospettiva adatta per sondare il terreno di questo concatenamento di crisi è la prospettiva della scala cosmica o meno della scala geologica contraposta e interpenetrata con la scala di misura umana è plausibile ipotizzare che questa scrittura a scala micro macro cosmica sia un fenomeno in qualche modo specifico di un certo momento storico che va della crisi degli anni settanta che fa in qualche modo da spia da segnale d'alarme della crisi planetaria a venire cioè la nostra c'è infatti un altro scrittore un altro testo pubblicato a metà degli anni settanta anche se pensato molto prima che condivide con il cavino della pompa di benzina l'impulso a rimmaginare la storia la materia e il concetto del tempo attraverso una nuova scala micro e macro cosmica sto pensando a carbonio di primo Levi l'ultimo capitolo del sistema periodico in cui il legame del carbonio con la vita e con la materia naturale della terra e del cosmos e il suo lungo trasformarsi attraverso la luce del sole è seguito attraverso miliardi di anni incluso nello specifico il petrolio e altri carburanti l'uomo ha trovato e trova e tuttora trova ma per quanti decenni ancora stessa coscienza della fine gigantesche riserve di carbonio già organicato o almeno ridotto oltre al mondo vegetale ed animale queste riserve sono costituite dai giacimenti di carbon fossile e di petrolio ma anche questi sono eredità di attività fotosintetiche compiute in epoche lontane per cui si può bene affermare che la fotosintesi non è solo l'unica via per cui il carbonio si fa vivente ma anche la sola per cui l'energia del sole si fa utilizzabile chimicamente tra l'altro siccome oggi si trovano comunemente paragoni e parallelismi tra le catastrofi storiche del novecento cioè la Shoah la bomba atomica e così via e le crisi climatiche ed ecologiche del nostro secolo è interessante ricordare come il percorso di Levi chimico preoccupato della prospettiva dell'esaurimento del petrolio come fonte materiale di energia e della terra come ospite della vita organica si ricollega anche a Levi del Lager di Auschwitz attraverso la mostruosa fabbrica di la Buna anch'essa un luogo di morte di carbone e di petrolio questo è un uomo la Buna è disperatamente ed essenzialmente opaca e grigia questo sterminato in trico di ferro di cemento di fango e di fumo è la negazione della bellezza e più in là dentro al suo recinto non cresce un filo d'erba e la terra è impregnata dai succhi velenosi del carbone e del petrolio e nulla è vivo anche Levi dunque come Calvino come Pasolini come forse tutta la società occidentale del dopo 73 trae le conseguenze economiche ma anche esistenziali della crisi e ne traggono una nuova idea di letteratura di nuovo su una pagina del Corriere della Sera sempre nel 74 troviamo Levi e Calvino uno accanto all'altro a rispondere ad un'inchiesta sulla fantascienza di fronte alla crisi energetica nel suo pezzo a sinistra Calvino cita Robinson Crusoe come possibile modello di nuove forme di una letteratura della scarsezza forse ma non so possiamo ipotizzare che aveva già visto il brillante romanzo dello stesso anno di Ballard Concrete Island l'isola di cemento capolavoro anch'esso una riscrittura di Robinson Crusoe o di l'isola del tesoro doppiamente capolavoro della letteratura dell'uomo automobilistica e anche visione post apocalittica della perdita dell'uomo sproveduto in mezzo al labirinto moderno della città autostradale per concludere il rapporto tra Pasolini e Calvino proposto da Carla Benedetti nel 98 come chiave critica per capire il ruolo dello scrittore del secondo novecento e recentemente rivisitato 25 anni dopo è stato nel periodo del dopo 68 si sa un dialogo tra sordi sul terreno della politica culturale della sociologia del contemporaneo del concetto di letteratura e così via ma con la pompa di benzina messo di fronte a petrolio e forse anche ad altri testi tra cui Carbonio di Levi troviamo forse un nuovo terreno d'incontro quello di una letteratura ecogeologica proto-antropocenica neo-apocalittica proiettata attraverso e oltre la scala umana sensibile all'evoluzione del mondo e del cosmos materializzato in questi casi attraverso il topos del petrolio della benzina del benzinaio la pompa la macchina degradata a secco a rugginita questo terreno sarebbe senz'altro da contestualizzare meglio in una storia più lunga di un sottogenere molto particolare che potremmo chiamare la letteratura del petrolio che risale almeno al romanzo del 27 Oil di Upton Sinclair e comprende anche come ha segnalato molto bene in un saggio della storica politologa inglese Helen Thompson fenomeni di massa di cultura di massa come la fantascienza di Asimov c'è un racconto lì pubblicato su Time The Nightmare Life Without Fuel e perfino dice Thompson le serie televisive americane di fine anni 70 che hanno segnato un'epoca in tanti modi diversi in Italia come in tutto il mondo Dallas Dynasty si scherza però lei Thompson ritiene che sono indicazioni di una coscienza della presenza del petrolio nell'economia nella vita nei drammi del moderno di questo particolar momento del moderno che sta finendo con gli anni 70 con la pompa di benzina Calvino è stato capace di aprire attraverso la prassi quotidiana dell'uomo automobilista orizzonti molto estesi come ha spiegato bene la studiosa americana Karen Pinker in due libri bellissimi uno intitolato Carburanti Fuel in inglese e l'altro Sub Surface che entrambi si soffermano anche su Calvino e Pasolini tra tante altre cose si tratta di un immaginario ampio di una mitologia delle forze alchemiche dell'energia e del rapporto tra superficie della terra e sottosuolo tra l'estrazione umana dal profondo della terra del petrolio della benzina dell'essence come dicono in francese Levi ricorda questa parola essence come indicativo della forza fondamentale di questa materia e la sua immanenza nella banalità di un'ora di pranzo in un'anonima città italiana a metà degli anni settanta come se fosse l'inizio della fine di qualcosa grazie grazie Robert per questo questa analisi molto interessante di questo racconto di Calvino che francamente avevo dimenticato e avercelo inquadrato in questo questa prospettiva ecocritica e soprattutto per il riavvicinamento di Calvino e Pasolini che sono molto più simili in tante cose di quanto si pensi spesso adesso last but not least ho il piacere di presentare Eleonora Cardinale che è l'ultima relatrice Eleonora Cardinale ha conseguito il dottorato di ricerca in italianistica presso la sapienza come funzionaria bibliotecaria del Ministero della Cultura lavora presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nel settore degli archivi e biblioteche letterarie contemporanee è curatrice scientifica del Museo Letterario Spazi 900 e del relativo Portale ha curato diversi progetti di catalogazione inventariazione e digitalizzazione di fondi d'autore e come studiosa si è occupata tra l'altro di poesia italiana del Novecento con particolare attenzione alla prima metà del secolo ha pubblicato in riviste e volumi saggi su Matilde Serau Luciano Folgore Guido Gozzano Eugenio Montale ed Elsa Morante è stata inoltre docente presso la scuola di alta formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e la scuola del patrimonio della fondazione scuola dei beni e delle attività culturali è inoltre membro del collegio di dottorato in studi comparati dell'Università Torvergata di Roma che comprende lingue letterature e arti e ci parlerà della sala Calvino grazie cercherò di essere estremamente breve per non rubare del tempo alla visita parto dal titolo del convegno Calvino guarda il mondo ecco credo che si possa affermare che la casa di Campo Marzio è la summa ultima dei segni che Calvino ci lascia del suo sguardo sul mondo ogni scaffale ogni cassetto ogni parete della casa di Campo Marzio ci restituisce in qualche modo il suo sguardo sul mondo nulla potrebbe sembrare casuale ma in realtà nulla è casuale parto da una premessa doverosa sebbene ormai molto nota risaliamo a qualche anno fa quando tra Giovanna Calvino e la Biblioteca Nazionale è stato siglato un contratto di comodato che ha fatto sì che la Biblioteca Nazionale sia diventato il luogo di conservazione del fondo archivistico e bibliografico di Italo Calvino ma anche di tutti gli arredi gli oggetti le opere d'arte che costituivano il salone studio di Campo Marzio questo ha permesso di allestire la sala Italo Calvino che è stata inaugurata con cerimonia pubblica il 28 luglio del 2021 quando si entra si entrava a Campo Marzio e ora si entra nella sala Italo Calvino subito si è colpiti da questa grande libreria bianca posta dietro ai due divani fulcro della Biblioteca Personale di Calvino un salone che è diviso dal vero e proprio studio da un'altra libreria chiamata Libreria Divisorio questo permette di entrare nel vero e proprio laboratorio di scrittura con la scrivania in cristallo dove sopra potrete vedere la famosa lettera 22 dell'Olivetti e in questo spazio altre due librerie bianche conservano la biblioteca personale a Tigo al salone studio c'era un'altra stanza chiamata la stanza del solitario anch'essa oggi riallestita all'interno della sala Calvino con due mobili importanti la scrivania in legno è la scrivania di Parigi il mobile libreria che vedete alle spalle è invece il mobile libreria che proviene dalla casa torinese e che oggi per la prima volta conserva i libri che erano rimasti nella casa torinese ecco la casa di Campomarzio possiamo dire che è la casa di Palomar proprio da quel terrazzo Calvino guardava il mondo lavorava sul terrazzo e potrete vedere come abbiamo recuperato anche il tavolo del giardino con questa famosa fotografia dove portava con sé la sua macchina da scrivere portatile e in questa nota fotografia si vede che scattata dall'altana dell'abitazione di Campomarzio si vede proprio la famosa barahonda dei tetti Calvino vedete tiene una sfera in mano questa stessa sfera oggi la potrete vedere sulla scrivania della sala Italo-Calvino torno a Palomar e in particolare torno alle lezioni americane a quanto Calvino scrive su Palomar nelle lezioni americane parlando del libro e dicendo come negli ultimi anni stava alternando esercizi sulla struttura del racconto a esercizi di descrizione a proposito di Palomar scrive è una specie di diario su problemi di conoscenza minimali vie per stabilire relazioni col mondo gratificazioni e frustrazioni nell'uso del silenzio e della parola e poco dopo chiama in causa un suo maestro ponge il ponge del partito preso delle cose ovviamente nella biblioteca personale troviamo sia l'edizione originale sia la traduzione in italiano a proposito di ponge proprio dei brevi testi del partito delle cose del partito preso delle cose scrive rappresentano il migliore esempio di una battaglia con linguaggio per farlo diventare il linguaggio delle cose che parte dalle cose e torna a noi carico di tutto l'umano che abbiamo investito nelle cose faccio un passo indietro e arrivo all'antologia la lettura dove sempre protagonista è ponge in cui troviamo un'altra importante definizione di ogni cosa ponge riflette su come è fatta ci legge dentro come in un libro e alle volte arriva attraverso l'osservazione di quell'oggetto a capire qualcosa di più su di sé e sul mondo ecco qui la mia attenzione si sofferma proprio all'oggetto perché la casa di Campomarzio è costellata di oggetti per citare già abbondantemente citato lo sguardo dell'archeologo lì troviamo il solo fatto che oggetti così e così si ritrovino in quel punto già dice tutto quel che c'era da dire ecco non solo le carte e libri ci restituiscono il laboratorio di scrittura ma anche le opere d'arte gli oggetti presenti nel salone studio raccontano incontri rapporti suggestioni e viaggi dimanendo sempre nel tema di Palomarre e in suggestioni che tornano intanto uno dei primi oggetti che subito colpisce è la statuetta dell'osservatore non a caso poi l'abbiamo scelta come simbolo della mostra dono prezioso di Cicita a Italo e invece tra le pareti della casa troviamo quest'opera di Gianfranco Baruchello è un'opera ecco le suggestioni che tornano a proposito di Palomarre è un'opera del 1965 è un'opera donata a Italo e Cicita e nel retro troviamo questa dedica per ricordarci a Italo e Cicita Calvino per ricordarci di questo nostro incontro di oggi 27 novembre 1965 Gianfranco Baruchello si conserva anche un'altra opera di Baruchello non tra le pareti però della casa ricordo nel 1963 risale a quell'anno grande effetto Palomar l'opera di Baruchello oggi esposta alle scuderie e ricordo come poi nel 66 Calvino andrà insieme proprio a Baruchello a New York ancora altra presenza tra le pareti Sol Steinberg altra figura importantissima con due elementi una bottiglia una bottiglia di vino con etichetta di artista è firmata Steinberg e è numerata 39 di 50 accanto troviamo invece un manifesto un manifesto della mostra di Steinberg al Whitney Museum of American Art tenuta dal 14 aprile al 9 luglio del 1978 è dell'anno prima sappiamo già citato in questo convegno il testo la penna in prima persona testo che poi confluirà in una pietra sopra e sappiamo come con lettera del 15 aprile 1980 Calvino scriverà a Steinberg comunicando proprio questa scelta della copertina di mettere nella copertina un suo un suo disegno altro artista presente tra le pareti Toti Scialoia e qui altro con queste due opere altro rapporto importante e testimoniato dalla casa di Campo Marzio altri oggetti tra gli scaffali si incontrano poche effettivamente poche fotografie ma tra le poche fotografie tutte le fotografie in realtà sono estremamente significative qui vediamo nel primo nel ripiano più in basso Elio Vittorini è una fotografia cara a Calvino perché già la ritroviamo nelle fotografie della casa parigina quindi è una foto che Calvino porta con sé e la ritroviamo nelle varie nei vari scaffali della casa di Campo Marzio e invece poco sopra Buster Keaton Buster Keaton che come dirà nell'autobiografia di uno spettatore figura tra i posti d'onore nella sua infanzia immaginaria legato al cinema ricordo anche che tra gli oggetti preziosi che abbiamo ritrovato nella casa di Campo Marzio c'è il proiettore della Pate Baby utilizzato dalla famiglia Calvino a Sanremo insieme alle bobine di numerosi filmini della Pate Brevi oltre ai filmini di famiglia che adesso potete vedere anche nella mostra ma tra ecco questa è un'altra importante fotografia tra le poche fotografie tra le pareti che cosa incontriamo la famosa fotografia dell'Ulipo della riunione dell'Ulipo del 23 settembre 1975 tra tutti però c'è un oggetto più simbolico di altri e si incontra con lo sguardo non appena entriamo nella casa di Campo Marzio nella sala Italo Calvino è una farfalla posta al centro della grande libreria bianca è una farfalla brasiliana come sappiamo dall'etichetta posta nel retro è stato più volte citato in questo convegno è famosissima la citazione tratta dall'intervento che ha tenuto Calvino alla fiera del libro di Buenos Aires quando Calvino scrive la verità si trova solo inseguendolo dalle pagine di un volume a quelle di un altro volume come una farfalla dalle ali variegate che si nutre di linguaggi diversi di confronti di contraddizioni ecco questa farfalla una farfalla troviamo proprio in uno degli scaffali più importanti della biblioteca di Campo Marzio perché quando si entra come quando si entrava nella casa di Campo Marzio così quando si entra nella sala Italo Calvino ovviamente si rimane colpiti in prima battuta dalla grande quantità di libri dalla biblioteca personale di Calvino conservata nelle quattro librerie che abbiamo visto ma anche in altri pochi ripiani che erano sparsi per casa ora sulla biblioteca si è tanto parlato in questi giorni quello che vorrei fare io in questo mio breve intervento è fare il punto sullo stato dei lavori come anticipato il direttore la biblioteca dalla prossima settimana sarà consultabile le quattro librerie quindi la biblioteca personale di Campo Marzio le quattro librerie sono state catalogate è in corso la revisione di questa catalogazione e stiamo completando il resto del fondo quindi è un catalogo consultabile nel nostro OPAC nell'OPAC della biblioteca la prossima settimana daremo tutte le indicazioni sulle modalità di consultazione ricordo sempre che per la consultazione dei nostri fondi d'autore è importante nella ricerca avanzata utilizzare la chiave possessore questo termine tecnico possessore che ci permette di andare a ricercare i fondi i fondi d'autore qual è la specificità propria di questa biblioteca è l'aver mantenuto l'ordinamento originario e questo mi soffermo su questo perché è in realtà una cosa molto rara di poter acquisire delle biblioteche che hanno mantenuto intatto l'ordinamento non avviene così spesso nel momento in cui avvengono i trasferimenti e la biblioteca fin dai momenti del trasloco ha cercato proprio di mantenere di lavorare nel completo rispetto di questo ordinamento in fase infatti di catalogazione il momento della collocazione dei libri è stato un momento importantissimo e qui ringrazio il lavoro che ha condotto per anni Laura Di Nicola a Campo Marzio insieme alla Sesta Cicita perché grazie al lavoro condotto da Laura Di Nicola è stato possibile mantenere intatto l'ordinamento e collocare i libri come sono stati collocati questi libri i libri seguono un ordinamento topografico quindi l'ordine delle librerie con le colonne ordinate in numeri romani i vari palchetti i vari scaffali ordinati in ordine alfabetico e l'indicazione dei libri posti nel retro perché una delle caratteristiche della biblioteca di Campo Marzio è che quasi tutti i scaffali hanno libri messi in doppia fila quindi una biblioteca che aumenta notevolmente il numero il numero dei volumi e era importante anche nella collocazione dare questa indicazione qual è l'altra peculiarità che è emersa in questi giorni è una biblioteca ricca di discipline quindi un altro aspetto importante che è stato curato è quello della classificazione e soggettazione di tutti i volumi proprio per permettere di avere contezza delle discipline presenti e delle loro relazioni mi soffermo su questo perché è una specificità propria della biblioteca di Calvino quasi sempre le biblioteche degli scrittori hanno una prevalenza di letteratura italiana di un sapere umanistico e quindi spesso non sono sottoposte a classificazione e soggettazione mentre nel caso specifico di Calvino è stato richiesto proprio anche di compiere questa operazione e ancora di ogni esemplare nel catalogo sono presenti le eventuali tracce di lettura le eventuali dediche e la presenza degli inserti e in questa maniera ci permette la biblioteca di comprendere le modalità di lettura di Calvino che cambiano anche nel tempo vi porto adesso alcuni esempi che poi potete vedere nella mostra che abbiamo allestito nei libri scolastici nei libri giovanili sono ricche le annotazioni ma soprattutto i libri sono ricchi di disegni di caricature di vignette soprattutto nei piatti di coperta come in questo caso è un esemplare dell'Iriade e dell'Odissea con una divertentissima secondo me caricatura la vedete nel piatto di coperta anteriore una caricatura di Omero che chiede l'elemosina altro esempio che troviamo è una grammatica greca anche qui la vignetta dell'essere preso prigioniero è nel piatto di coperta posteriore come un altro esemplare importante per la formazione per le prime letture di Calvino l'isola del tesoro di Stevenson ecco è un esemplare ricchissimo di note di traduzione questo per dirvi che invece poi nel tempo le modalità di lettura cambiano completamente perché Calvino non lascia più tracce segni all'interno del testo lascia minime tracce di lettura è estremamente geloso del testo e ha invece una modalità che ricorre in diversi esemplari di andare a puntare all'inizio del libro quasi sempre nella carta di guardia o nell'occhietto le pagine di suo interesse e quindi ho riportato questo come esempio ho preso il testo di Paolo Zellini breve storia dell'infinito citato nelle lezioni americane come tra i libri italiani degli ultimi anni quello che ho più letto riletto e meditato ecco vedete nella carta di guardia anteriore noi troviamo l'indicazione delle pagine 132 136 170 171 a matita infatti si legge è leggerissimo altro esempio importante che ci fa capire quanto la biblioteca sia uno strumento di lavoro e quindi il suo personale schedario per la stesura dei testi è l'esemplare del De Camerone di Giovanni Boccaccio nell'edizione 1970 qui vediamo che ci sono due lignette una all'inizio e una alla fine se noi andiamo a vedere questo brano questo passo siamo nella nona novella della sesta giornata la novella di Cavalcanti ecco esattamente è la citazione che Calvino utilizzerà nelle lezioni americane qual esempio di leggerezza e come la seleziona con due minime lignette una iniziale e una finale della biblioteca di Calvino abbiamo non solo la biblioteca personale di Campomarzio la biblioteca i libri di Torino che sono stati donati alla biblioteca nazionale della casa editrice Naudi ma fanno parte della biblioteca anche le traduzioni delle sue opere ricordo che nel 2021 è stato siglato un accordo sempre dicomodato con il dipartimento di lettere e culture moderne della Sapienza e con il laboratorio Calvino proprio per conservare qui in nazionale il fondo Italo Calvino tradotto che era stata a sua volta nel 2018 donato da Cicita e da Giovanna Calvino alla Sapienza completano completano inoltre il fondo Calvino sia edizioni delle opere dello scrittore anche dopo la morte di Calvino i libri della moglie Cicita e una collezione di dischi ovviamente nella casa di Campomarzio oltre a libri sono presenti nel salone studio anche parte delle carte nei cassetti nel mobile bianco dello studio nei cassetti del mobile libreria della stanza del solitario un esempio significativo è il cassetto dei tarocchi dove sono conservati diversi diversi tarocchi utilizzati per il castello dei destini incrociati le carte sono conservate per lo più in delle cartelle con delle note autografe divisi per anno questo ci fa capire che Calvino soprattutto per quanto riguarda la corrispondenza e per alcuni testi critici seguiva un ordinamento cronologico le principali serie sono la corrispondenza gli scritti la rassegna stampa le fotografie documenti personali gli audiovisivi stampe e disegni e va ricordato che oltre alle carte di Calvino costituiscono degli archivi aggregati sia i materiali della moglie Cicita soprattutto il suo lavoro che ha compiuto sull'opera di Calvino ma anche dei genitori Mario ed Eva Mameli anche le carte sono in corso di inventariazione stiamo lavorando alla serie della corrispondenza abbiamo schedato in analitico già 5.000 lettere e mancano pochi faldoni quindi contiamo e speriamo che presto nei prossimi mesi di poter far consultare già questa prima serie e di procedere poi il prossimo anno con tutto il lavoro che rimane anche le carte come i libri ci permettono di entrare nel laboratorio di scrittura tra fogli di appunti di schemi stessure e manoscritte da tiroscritte bozze di stampa quello che ricorre spesso in particolare nei testi critici è il fatto che si trovano del testo tre stessure una prima stessura con numerose correzioni una brutta copia manoscritta una successiva stessura manoscritta che tende a essere quasi impulito per poi passare invece alla stessura da tiroscritta che poi a sua volta riporta delle correzioni l'esempio qui riportato è il testo Il mondo è un carciofo per Carlo Emilio Gadda testo scritto nel 1963 e oggi esposto nella mostra altro caso spesso da un foglio di appunti sparsi da un elenco di argomenti prende vita il testo e il caso che è qui mostrato è riferito alla Pubella Gre racconto pubblicato nel 77 su Paragone ecco la conclusione assai nota come si conclude il testo solo resta a me e mi appartiene un foglio costellato da punti sparsi in cui durante gli ultimi anni sono andato segnando sotto il titolo la Pubella Gre le idee che mi affioravano alla mente e che mi proponevo di svolgere in distesa scrittura e poi trascrive questo testo ecco quello che vedete è proprio questo foglio costellato da punti sparsi insieme a diversi e numerosi incipit del testo da la stesura con numerose correzioni fino alla stesura impulito proprio a riprova del lungo lavorio compiuto sul testo la sala Calvino non solo all'interno della sala una terza scrivania dobbiamo ricordare quella della casa torinese è oggi esposta nel nostro museo spazi 900 e ancora quello che vorrei sottolineare è che sebbene la sala Calvino sia una sala che abbia un'immediata valenza espositiva molti sono i visitatori che vengono oggi a visitare la sala e lo faremo a brevissimo ma voglio ricordare che innanzitutto la sala Italo Calvino è una sala di studio e ricerca per questo stiamo lavorando come ha già detto bene questa mattina il direttore ha un centro di documentazione che permetta a tutti voi di poter consultare la bibliografia degli scritti di e su Calvino proprio accanto alla sala è l'ultima tappa di un lungo percorso che la biblioteca negli anni ha portato avanti di politica di conservazione acquisizione del patrimonio letterario contemporaneo biblioteche e archivi di scrittori che si è fortemente intensificato dal 2015 con la creazione di un vero e proprio museo letterario spazi 900 l'obiettivo nostro primario è quello di rendere questo patrimonio accessibile e farlo quanto prima e la mostra che abbiamo allestito si è mossa in questo senso per dare veramente un primo assaggio delle potenzialità del fondo e di come da questo materiale si possano aprire nuove piste di ricerca grazie e ora non ci rimane che visitare la sala grazie a calvinale per aver quasi in un dramma di pirandello evocato calvino in carne ed ossa attraverso i suoi libri i suoi oggetti le immagini degli artisti che amava grazie mille bene possiamo per chi vuole possiamo visitare la sala calvino nella sala dovremo entrare a rotazione per ovvie ragioni di spazi e di sicurezza però ci possiamo dirigere tutti insieme verso la sala calvino calvino calcone in l'amid calcone calcone